Nuovo appuntamento, siamo riusciti anche a cambiare un po' i nostri usi e consuetudine pur di avere insieme a noi Sara bentornata come stai? Grazie ragazzi, grazie della pazienza, è un piacere essere con voi, mi siete mancati e quindi nonostante purtroppo StreamYard non mi funzioni, non so per quale motivo, siete riusciti a venirmi incontro e oggi stiamo usando un'altra cosa e insomma mi rendo conto dell'eccezione che avete fatto per me e sono molto contenta di rivedervi. Per te questo ed altro stanno suscitando un sacco di clamore i tuoi video, molti mi parlano di te ed è bello vedere anche un po' di fermento fra relatori, puntate che si intrecciano, argomenti che si citano, mi fa piacere. Ah io non sono a conoscenza di nulla di tutto ciò, poi dopo mi mi informerai perché sì sono stata presa dalla vita di campagna e quindi non sono fuori dal tunnel, infatti sono contenta it's good to be back. Sono molto contenta, recuperate anche voi i video precedenti che abbiamo fatto insieme a Sara e questa sera di che cosa ci vuoi parlare? Questa sera parlerò di un argomento di cui ho parlato già diverse volte che sarebbe quello sull'artificialità dei fiumi che io ho riscontrato, che mi avete chiesto insomma e di cui ho parlato ampiamente per cui questa volta vorrei farlo da un punto di vista un pochino diverso implementandolo un po' con altre altre cose insomma che non ho ancora detto e per collegarci a un argomento che è uno dei miei favoriti ultimamente di cui mi sto occupando che sarebbe quello su Tartaria. Quindi ci occuperemo di questi fiumi e l'abbiamo chiamata questa puntata e fiumi di Tartaria e ci saranno però altre puntate almeno un'altra che seguirà perché appunto è un argomento di una vastità tale che oggi incominciamo soltanto a toccarlo e se sei d'accordo io posso incominciare a condividere lo schermo. Entriamo anche così proprio anche alla base della luce cosa c'entrano i fiumi? Se ti va mi fai solo questa premessa nell'osservare i fiumi hai fatto delle ricerche e qual è la tua teoria? Così poi entriamo nel vivo però... Esatto. Dimmi intanto se mi vedi. Ti vedo. Siccome io ho fatto l'università di scienze geografiche e ho fatto una tesi di laurea in geografia fisica, in geomorfologia sulla mia città, la città di Ferrara e questa è stata un'esperienza che mi ha cambiato letteralmente il modo con cui guardavo al terreno e a quello che mi circondava perché mi sono resa conto che noi camminiamo in maniera completamente inconsapevole di quello che stiamo calpestando mentre ogni forma del terreno rivela ciò che c'è stato prima e noi ne siamo totalmente inconsapevoli presi dalla nostra vita quotidiana e questo questo mio studio poi la mia tesi è confluita in un libro che si chiama la Ferrara Geoarcheologica appunto che si trova anche gratuitamente sul mio sito in cui io ho incominciato a cercare appunto di ricostruire la vera genesi della città ovvero come la città si è sviluppata dal primo nucleo all'ultimo a partire dalle forme del terreno perché appunto ho trovato che c'era un'enorme lacunosità nei documenti e non si sapeva bene quale fosse in antichità insomma in principio la sua conformazione e quindi praticamente sono dovuta partire questo è quello che poi ne è venuto fuori sono dovuta partire da quella che era appunto la forma del fiume Po inizialmente su cui è sorta la città di Ferrara quindi poi ho dovuto andare a scartabellare in tutte le scoperte archeologiche che erano state fatte all'interno della città i carotaggi che rivelavano dove c'erano delle forme che tradivano le esondazioni del fiume Po dove c'erano vecchi canali e praticamente in questo modo riscoprire a seconda dei reperti che venivano trovati sotto terra quale fosse stata lo sviluppo a livello proprio cronologico della città dal nucleo più antico al nucleo più moderno quindi questa è la carta geomorfologico turistica che io ho creato in cui si vedono appunto le qua c'è una leggenda poi si vede il paleo alveo del fiume Po cioè il fiume come si presentava quando la città di Ferrara appunto è stata fondata e vediamo che qua non so se vedete la freccetta la vedi la freccetta? sì la vediamo qui prima c'era un'isola fluviale questo era in tracciato più chiaro era il Po come si presentava questa era un'isola invece oggi il fiume Po si presenta che poi adesso non si chiama più Po perché il Po adesso è stato si è spostato spostato a nord adesso c'è questo canale il canale di Volano e di Primaro e quindi adesso la città di Ferrara si presenta in questo modo mentre inizialmente era totalmente diversa quindi abbiamo messo i nuclei più scuri sono quelli più antichi e siamo riusciti a scoprire insomma qual era la sua la sua genesi quindi dai nuclei più scuri e quelli che si sono formati lì vicino fino agli ultimi e quelle forme che erano state originate dagli dai corsi d'acqua che c'erano in maniera copiosa dentro questa città quindi ho scoperto di essere su una città vedete adesso Ferrara è qui il Po passava proprio qua invece da un certo punto in poi dal 1600 si è spostato molto più a nord nella posizione odierna dopo la rotta di Ficarolo che è stata una rotta appunto che c'è stata nel 1600 e quindi noi a Ferrara non sapevamo tutto questo non non sapevamo che avevamo una città che era stata così importante che sorgeva su un fiume così importante che era appunto l'eridano antico l'antico fiume eridano di cui parlavano anche i poemi greci per cui sono andata a studiarmi appunto questa è tutta la paleoidrografia quindi dove tutti i fiumi passavano in precedenza in antichità e tutta la cartografia antica per vedere quale fosse la forma antica del fiume Po e l'antica forma della città prima dei rifacimenti degli ampliamenti successivi delle addizioni successive e ho scoperto che questa città aveva subito tantissime opere di modifica idraulica e di modifica dell'alvio del fiume Po tant'è che c'erano stati periodi in cui addirittura c'era la fortezza stellare c'era questo era tutto il fossato pieno di acqua questo era il fiume Po che era già stato spostato nella posizione odierna qua era rimasto soltanto il fiume Volano il fiume Primaro e all'interno della città tra l'altro qua non si vede ma era tutta piena di canali tutta piena 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 qui si vede il nucleo antico della città e era una città come Venezia dove adesso ci sono strade erano solo canali che a un certo punto sono stati interrati infatti camminando per la città si vedono delle arcate semisepolte di quelli che erano vecchie porte vecchi palazzi sintomo del fatto che il piano di calpestio si è innalzato e che prima si trovasse più in basso e quello che mi ha colpito è stato il fatto che a queste a questi ritrovamenti insomma questi fenomeni la geologia desse come spiegazione il fatto che c'erano state delle esondazioni dei diluvi ma dei diluvi che venivano provenivano proprio dall'esondazione dei canali che erano tantissimi in questo fiume Po che tra l'altro all'interno della città di Ferrara c'era il problema della confluenza tra il Reno e il Po che causava spesso tantissime esondazioni e vere e proprie balanghe di fango possiamo dire invece quello che è stato scoperto facendo i vedendo appunto le analisi degli scavi archeologici che erano stati fatti era che questi detriti che si ritenevano di origine alluvionale invece non erano di origine alluvionale ma si trattava di stratificazioni di case precedenti quindi si trattava di case distrutte che poi erano state ricostruite alzando il piano di calpestie questa è stata una cosa abbastanza strana che io ho riscontrato e chi conosce un po' la storia di che si racconta su Tartaria potrà fare qualche collegamento ma lasciamo questa cosa per più avanti diciamo un po' una parola chiave il mad fluid esatto esatto e quindi sì questa è la carta che vi ho fatto vedere che è quello che è risultato e quindi per cercare di comprendere meglio che cosa stesse sotto i miei piedi per fare questa carta che doveva praticamente portare un turista a comprendere a livello cronologico dove stava camminando sulla città e capire anche quale fosse la vecchia conformazione ambientale e naturalistica insomma del fiume perché dove prima dove adesso ci sono dei quartieri prima erano delle isole fluviali sono tutte cose molto carine interessanti secondo me per un turista da sapere al di là della chiesa o del castello insomma comprendere anche la storia di una città era una cosa che mancava totalmente per cui noi abbiamo io il mio professore abbiamo avuto questa idea di fare questa cosa per fare ciò quindi abbiamo dovuto studiarci proprio tutto quello che era la paleidrografia del fiume Po quindi qua vediamo quello di cui vi ho parlato adesso questa è la città di Ferrara che cosa si è scoperto che la città di Ferrara si aveva notizia della sua creazione a partire dal settimo secolo e era stata fondata come castrum dai bizantini che dovevano utilizzarlo per l'avanzata per contrastare appunto l'avanzata dei Longobardi che cosa succede che Ferrara nel preciso momento in cui si stabiliscono i bizantini il suo fiume ha un punto di di fluenza cioè si biforca in questa zona tra quelli che adesso si chiamano volano e primaro ma adesso infatti il fiume come vi ho detto è più sopra perché dopo la rotta di Ficarolo il fiume è stato spostato sopra che cosa è successo che però poco tempo insomma un bel po di tempo prima secondo quello che è la cronologia corrente perché anche su questo c'è molto da dire io me ne sto occupando ma è un altro argomento c'era stato un altro popolo molto importante che aveva fondato una grandiosa civiltà la civiltà di Spina una civiltà etrusca e in quel momento in cui appunto gli etruschi si sono stanziati nella zona proprio dove sono stanziati il fiume Po ha dato origine a una un'altra biforcazione che era tra il fiume Eridano il famoso Eridano dei poemi e il fiume Olana quindi una cosa strana che ho notato è che questo fiume nel momento in cui si stabiliscono queste popolazioni cambia il suo corso mi era stato insegnato che si trattava di congiunture tettoniche climatiche però a me è sembrata una cosa abbastanza strana e me la sono tenuta lì poi sono andata a studiarmi l'altro fiume Eridano perché il problema era che me l'ha posto il mio professore che il fiume Eridano questo nome Eridano non fosse specifico solo del fiume Po ma era presente anche ad Atene e lui mi ha chiesto ma come è possibile che lo stesso nome dello stesso fiume sia presente in due popolazioni linguisticamente così differenti insomma così lontane tra di loro secondo quello che ci vengono che ci viene insegnato insomma e quindi questa cosa è rimasta lì nella mia mente ho incominciato a studiare tutto quello che potevo scoprire sul Eridano quindi ho incominciato proprio dalla toponomastica cioè dalla idronomastica nel caso dei fiumi e mi sono guardata l'etimologia del fiume Eridano e ho scoperto che questa etimologia era estremamente disputata questo è quello che dice wikipedia per il nome Eridano e perché alcuni autori ricollegano la prima metà del nome al termine greco eri che significa prima o presto mentre derivano la seconda metà da una radice dicono protoind europea che significa fiume con l'incerto significato complessivo di primo fiume o che prima era un fiume alternativamente viene ricondotto al nome della città sumera di Eridu addirittura o ancora viene fatto derivare dai termini egitti eri uri inondazione e tuntanu sollevarsi rivoltarsi quindi mi sono andata a vedere tutte queste popolazioni che cosa dicevano riguardo alla nascita dei loro fiumi ho scoperto delle cose veramente interessanti cioè che tutte queste popolazioni raccontavano che questi fiumi erano stati scavati artificialmente senza eccezione lo raccontavano i sumeri come vedremo adesso tra poco lo raccontavano gli egizi e parlavano proprio di queste opere di bonifica e di sollevamento delle acque che erano delle cose che io avevo visto succedere molto sovente nella mia pianura padana insomma e che ho ritrovato identiche in tutte queste popolazioni alle quali veniva ascritta la paternità presunta proprio del termine Eridano e quindi questa è stata una cosa che mi ha aperto tutto questo studio io l'ho fatto appunto in una serie video di sette puntate che si chiama appunto i fiumi non esistono in natura ingegneria idraulica degli Elohim poi dopo insomma ho fatto altre scoperte all'epoca l'ho ricondotto agli Elohim perché appunto erano queste popolazioni che dicevano che era stato fatto dagli Annunaki questo grande lavoro di scavo e ho scritto anche il primo articolo sul mio blog che si chiamava Eridano la prima stazione come i fiumi sono nati da madre natura e padre ingegnere che adesso sta diventando un libro per cui oggi ne parleremo in maniera sommaria perché ci sono tantissime cose da dire quindi quello che ho scoperto è stato che queste popolazioni e io ne trovavo le prove avevano creato un grandissimo sistema di canalizzazione e i fiumi non facevano eccezione quindi non era il fiume che nasceva e poi la popolazione lo trovava e si stanziava ma come una popolazione si stanziava e questo spiegava anche la cosa che avevo visto dei bizantini e degli etruschi che come si stanziano nasce questo fiume la prima cosa che facevano era proprio quella di cercare di rendere il loro territorio atto all'agricoltura e salubre perché c'era sempre il rischio di impaludamenti quindi era molto importante per loro la manutenzione idraulica e addirittura i colli erano parte secondo quello che loro raccontavano di questo grande di questo grande impianto infatti questa è una foto del colosso di Pratolino che è fatto da Giambologna a cui Giambologna è l'architetto che ha fatto la fontana del Nettuno a Bologna e il suo grande acquedotto sotterraneo nel Cinquecento stesso acquedotto che però si dice che sia di origine romana ed è lo stesso identico è un enorme complesso che si dice che sia sia che sia nato dai romani e che lo abbiano continuato poi in seguito nel 1500 durante il rinascimento Giambologna e Leon Battista Alberti mentre Vitruvio era il romano che se n'era erano i trattati appunto che avevano utilizzato per la sua costruzione e anche questa questione la sto trattando parallelamente cioè il fatto di come mai una sola opera idraulica viene ascritta a due popolazioni lontane di 1500-2000 anni tra di loro ma è un altro è un altro discorso che ho trattato poi sul mio canale adesso restiamo su questo Giambologna si diceva di lui che ha creato l'Appennino e che si è fermato a Pratolino Pratolino è questo posto appunto dove ha fatto questo grandissimo colosso che è completamente artificiale ma è gigantesco non so se la freccetta potrebbe essere la grandezza di un uomo e questo è un è un impianto idraulico che lui ha fatto che poi dà su questo laghetto artificiale e si diceva questo perché appunto loro ritenevano e ne ho parlato tanto appunto durante le mie serie che gli stessi colli e gli stessi rilievi facessero parte di questa di questo impianto idraulico di cui i fiumi erano una era erano l'ultima parte insomma perché la montagna serviva per portare le acque in alto dal sottosuolo che poi ridiscendessero a valle per appunto sostentare le città attraverso i fiumi che erano canali che venivano chiamati canali quindi come si come già vi ho detto appunto ho incominciato guardando la civiltà etrusca dove appunto questa biforcazione questi due fiumi olana ed eridano muoiono quando si stanziano i bizantini e nascono altri due fiumi e una cosa interessante che ho scoperto anche attraverso le opere di plinio qua ci troviamo a ferrara nel palazzo del museo archeologico della civiltà di spina che era il palazzo di ludovico il moro e qui c'è una sala che si chiama la sala delle carte geografiche dove si trovano tutte le carte geografiche che ritraggono i cambiamenti all'idrografia che sono stati fatti dagli etruschi in poi nella pianura padana quindi tutte le canalizzazioni che hanno fatto i romani quelle che sopra ci hanno fatto gli etruschi quelle che poi hanno fatto durante il medioevo e durante il rinascimento quindi quello che è venuto fuori è che tutte le popolazioni che sono state su questi territori e la stessa cosa l'ho riscontrata e si vede appunto nello studio che ho fatto anche a Sumer e anche in Egitto e anche in Sud America dappertutto la stessa cosa si vede che noi abbiamo un territorio dove vediamo che ci sono dei fiumi naturali e poi invece sappiamo che scavando sono state trovate opere di canalizzazione precedenti e scavando ancora altre opere di canalizzazione ancora precedenti il che significa che se quelle sotto sono artificiali ne consegue logicamente che quelle sopra sono altrettanto artificiali invece noi crediamo che siano naturali non ostante ci siano addirittura tutte le le opere accatastate al catasto io ho fatto vedere degli esempi di questo i catasti di diversi posti dove tutti tutti gli scavi di tutti i fiumi e gli allagamenti che diventavano laghi e gli invasi dove veniva scaricata l'acqua dei fiumi perché non andassero in città venivano tutti accatastati come opere e nonostante ciò oggi le persone pensano di trovarsi di fronte a dell'idrografia naturale e quindi uno dice ma è talmente chiaro e ovvio che si tratta di qualcosa di artificiale di una grande opera di ingegneria mi chiedo perché dobbiamo continuare nonostante tutte queste prove che se lo sto scoprendo io che sono una laureanda lo sapranno meglio di me insomma i miei professori perché si continua a raccontare questa stupidaggine in questa sala appunto delle carte geografiche c'è questa citazione di Plinio di Plinio il Vecchio da cui si desume qual era la vecchia idrografia del fiume Po perché quando si vanno a creare queste carte con la paleoidrografia si cercano dei reperti si cerca dei documenti storici appunto dove ci sia scritto dove si andavano dove andavano i fiumi dove come si sviluppava l'idrografia e quindi Plinio è uno dei principali diceva prima questa foce era chiamata Eridano da altri Spinetica perché si chiamava anche Spinete perché appunto era Spina dalla città di Spina che fu vicina che prevaleva fondata da Diomede come si credette per i tesori delfici qui il fiume Vatreno dal territorio di Foro Cornelio ingrossa il Po poi la foce successiva di Caprasia quindi quella di Sagis poi di Volano che prima era chiamata Olana tutte queste dalla Fossa Flavia che i Tusci etruschi per primi fecero dal fiume Sagis dopo aver scaricato l'impeto del fiume in obliquo nelle paludi degli Atriani che sono chiamate Sette Mari col famoso porto di Atria città dei Tusci da cui Atriatico era chiamato prima il mare che ora è Adriatico quindi già Plinio qua ci parla di come gli Etruschi avevano messo mano appunto all'idrografia del territorio per la bonifica che era una cosa appunto di cui c'era un estremo bisogno in questa zona e così è la stessa cosa che io ho ritrovato anche in tutti gli altri testi che poi ho mostrato una delle cose che si notano è che in tutte queste in tutte queste tutti questi reperti tutti questi documenti storici che ci vengono mostrati che mi sono stati mostrati all'università o che ho trovato negli archivi non ho trovato niente sui bizantini quindi ho trovato i romani dei quali però non si sa nulla se siano mai state a Ferrara però pensiamo che le ridano fosse romano abbiamo trovato i turi i turchi vabbè perché i turchi c'entrano abbiamo trovato gli etruschi e poi passiamo direttamente al medioevo passiamo direttamente al rinascimento dopo ma a livello di bizantini che sono loro appunto che nel settimo secolo hanno fondato la città non si trova nulla e questa è una cosa a parte insomma che io sto spiegando adesso che mi sto occupando proprio della questione degli errori cronologici che ci sono e lo sto facendo in una serie che sto facendo su youtube sulla vera storia dell'umanità però questa cosa la teniamo lì come abbiamo visto appunto l'esempio greco dove appunto il fiume ridano nasce con la città di Atene e muore col declino della stessa perché anche la città di Atene era stata fondata all'imboccatura no alla biforcazione tra due fiumi le ridano all'illisso come la stessa Ferrara che pure non doveva avere niente in comune si scopre che gli antichi greci chiamavano kefali testa la parte della sorgente sopra la superficie lo scopriamo da Erodoto perché loro pensavano che la sorgente fosse la testa e il corpo della ponte si trovava sotto terra infatti loro per testa intendevano sia la sorgente che la fontana perché per loro non c'era nessuna differenza tra queste due entità infatti in tutta la città di Atene queste due tutte le sorgenti e tutte le fontane che aveva che erano tantissime erano state tutte artificialmente progettate quindi addirittura quando sono andati a ricercare lo strato di scisto su cui poggiava la Gorà quindi noi sappiamo che è una collina pensiamo che sia una collina naturale su cui sorge la città di Atene ma quando sono andati a cercarlo questo strato naturale su cui poggiava la Gorà hanno dovuto andare tre metri sotto il livello del mare perché tutta la parte sopra era completamente antropica quindi questa collina prima non c'era e addirittura tutto il approvvigionamento idrico il trasporto dell'acqua era un enorme trionfo di abilità ingegneristica e utilizzava delle tecniche con tubature fittili tubature in piombo che portavano l'acqua a queste nove fontane e a tutte le abitazioni dell'antica Grecia quindi cose assolutamente impensabili dal nostro punto di vista e invece sono cose che io ho riscontrato identiche non soltanto in Grecia ma anche in altri posti questo è appunto le ridano le ridano mi ricorda le fontanelle classiche di Torino quindi a Torino tutte le fontanelle vengono chiamate i torelli perché sono tutte rappresentate da questa testa di toro da cui esce l'acqua mamma mia mi fai venire i brividi mi fai venire i brividi a sentire queste cose infatti venivano sempre rappresentate come testa di animali queste chefali greche perché volevano dire questo quindi già se incominciamo a pensare alla Grecia non più come la Grecia antica ma come la Grecia bizantina che è ciò che sta venendo fuori dai miei studi che c'è stata una sovrapposizione di due epoche che c'è un'epoca medievale greco-bizzantina che si chiamava impero romano appunto che noi pensiamo fosse quello impero romano d'oriente che è stata cancellata e al suo posto si racconta una storia degli antichi romani e degli antichi greci come due popolazioni distinte e sono state inserite molto in antichità ma secondo alcuni studi come quelli appunto del professore Anato Lifomenco si tratta di un'antichità fantasma che è stata riscritta dopo un reset per cancellare la storia di questa grande tartare insomma di cui parleremo per cui quando tu mi parli hai già di queste similitudini che incominci ad intravedere anche nella tua città si incomincia a vedere un disegno comune e le differenze incominciano a scomparire quindi questi qui per esempio sono l'iridano e l'illisso ad Atene come vediamo sono dei canali questi sono presunti reperti insomma dell'antica Grecia in realtà si tratta non dell'antichissima Grecia ma della Grecia bizantina come sto provando a dimostrare insomma e è ovvio che qua di naturale non c'è nulla ma tutto ciò che ci rimane di questi fiumi è questo per cui noi non possiamo sapere che una volta ci fossero al loro posto dei fiumi naturali altresì i sumeri appunto ai quali è stata scritta tra l'altro la responsabilità di una parte del nome eridano perché appunto eridu era la città la prima città che era stata fondata da questi annunachi nella loro prima fondazione terrestre e scrivevano appunto quello che adesso vi faccio vedere perforando una camera alle più basse profondità mettendo puntelle nelle profonde acque dell'apsu l'abisso misero sostegni situando questi per sollevare l'acqua in alto i supporti che reggono le cime alla base di tutte le montagne quindi qui raccontano che sono state fatte delle opere di scavo e sono stati messi dei sostegni e ci sono dei supporti che reggono le cime alla base di tutte le montagne quindi si parla sempre di montagne artificialmente innalzate hapsu era la distesa sotterranea di acqua dolce ricoperta come da un tetto da essa quindi per loro c'era acqua e sopra era stata ricoperta da un tetto di terra quindi loro da sott'acqua prendevano l'acqua appunto la portavano sopra queste montagne e dicevano l'acqua discese da questo monte artificialmente innalzato e scese verso il basso colmando il territorio di acqua per la quale era stata già predisposta una rete fittissima di canali irrigui per sostentare il territorio canali di cui maggiori diceva erano i tigri e le ufrate che raccoglievano le acque paludose rendevano il terreno adatto a ospitare la prima fondazione e così nacque eridu che letteralmente significava fatta per prima perché il termine eri in sumero come in greco che dovrebbe essere molto distante vuol dire primo quindi anche qua vediamo la stessa cosa che viene raccontata la stessa cosa in egitto appunto che il fiume nilo veniva chiamato eridano in egitto e si diceva appunto che fosse stato il netter il di opta che per sollevare il terreno inondato e renderlo coltivabile per fondare on la città la prima città egizia lui ha praticamente fatto questo fiume ha fatto questo canale e diceva che controllasse le sue piene da una grotta segreta con un sistema di chiuse al suo interno la stessa medesima cosa quindi da qui insomma sono riuscita a comprendere anche vedendo altri altre fonti che eridano il nome eridano significava proprio il primo fiume costruito per fondare una città per bonificare il territorio per sollevarlo dalla palude insomma per renderlo atto alla coltivazione alla vita e questi canali questi fiumi erano stati sempre scavati e tra l'altro si parla di sorgenti abbiamo parlato delle c'è delle chefali delle teste no delle fontane questa è la sorgente del fiume reno l'enorme fiume reno che ha smietuto enormi disastri in tutto il territorio della pianura padana di cui adesso vi accennerò nasce da questa fontana questa è la sorgente del fiume reno una fontana che a me non sembra una sorgente molto naturale però questa è infatti nel 1480 era una cosa risaputa che il fiume reno sia un canale artificiale oggi viene scritto che è un fiume naturale ma ovviamente non può esserlo e diceva Morandi nessuna città guadagnato e guadagna tanto dal corso naturale di un fiume quanto Bologna dal corso artificiale di un canale quindi all'epoca era una cosa che si sapeva è stato come se avessero voluto per romanticismo eliminare questa cosa perché non era pensabile che un enorme fiume come il reno fosse un canale abbiamo visto tra l'altro che nell'epoca nell'epopea sumera si parlava di sostegni che servivano a situare le acque in alto a portare le acque in alto e farle salire verso la cima della montagna da cui farle ridiscendere il sostegno è un tra l'altro un'opera che viene utilizzata è stata utilizzata tantissimo nella pianura padana tra l'altro con lo stesso nome di sostegno che è una doppia chiusa che serve ad alzare l'acqua perché ne chiudono prima una parte così l'acqua si alza e riescono a far andare l'acqua in alto quindi ho trovato le medesime parole per la medesima tecnologia è una cosa che mi ha colpito tra l'altro la questione del sollevamento di cui parlava appunto il neterta nell'antico egitto il la parte egizia dell'etimologia del fiume ridano sollevare per bonificare tra l'altro mi ricorda tantissimo quello che è successo proprio appunto nella piadura nella piadura padana con il consorzio della bonifica renana perché noi non sappiamo che se noi camminiamo nella pianura padana sull'asciutto è dovuto a quando appunto è nato nel 1909 questo consorzio di bonifica di questo ingegner pietro pasini che ha bonificato lui tutto quanto altrimenti noi dovremmo stare andando ancora in battello come si andava prima o in barca e invece noi camminiamo sull'asciutto grazie a lui e nessuno lo sa e secondo me si meriterebbe anche un po di gratitudine insomma perché siamo tutti belli comodi invece all'epoca era veramente un grandissimo disastro lui ha diviso la zona in terreni alti e terreni bassi acque alte e acque basse che a me ricorda molto quello di cui si parla soltanto non soltanto appunto nella bibbia le acque di sotto dalle acque di sopra dove tra l'altro mauro biglino ha trovato che c'erano delle degli echi proprio di ingegneria idraulica e si parlava anche di energia idroelettrica e se ne parlava anche nelle numaelish l'epoca e assumera da cui la genesi è stata tratta di quando sono state divise le acque di sotto dalle acque di sopra ma se ne parla sempre in ambito appunto di bonifica idraulica e quello che è successo da noi è la stessa cosa o forse sarà un caso però a me me lo ricorda molto insomma l'assonanza di questa di questo modo di definire queste acque ci sono le acque alte che sono i canali che sono diventati pensili perché che cosa succede quando l'acqua cammina insomma trasporta detriti allora nel tempo il letto si innalza e quindi devono innalzare anche gli argini perché altrimenti l'acqua fuoriesce e quindi questi diventano dei canali pensili questo è un esempio e molto spesso vabbè non lo so dove abiti tu se ce ne sono però comunque il po nasce lì si vede che quando tu stai arrivando vicino al fiume non vedi il fiume vedi un argine altissimo e dietro sta il fiume questo perché è diventato pensile perché per fare sì che non trasbordi man mano che sedimentava che si alzava il letto hanno innalzato anche gli argini e quindi questi sono canali pensili e si chiamano acque alte e loro che cosa fanno questi possono confluire nel reno che era diventato pensile anche lui dopo tanto tempo però poi c'erano anche le acque basse c'erano i canali normali che non erano alti quindi non riuscivano a confluire nel reno e quindi era un disastro perché esondavano quindi hanno avuto bisogno del sollevamento forzato e per questo hanno fatto queste questi impianti di sollevamento che appunto aiutano a trasportare le acque nel reno nel fiume per fare sì che non esondi la stessa cosa si diceva appunto negli antichi egizi questo fiume nilo che era pensile si parlava di come era stata fatta la bonifica per sollevare le acque in alto quindi a me ricorda molto proprio il gergo della bonifica e tra l'altro durante questa bonifica renana noi non abbiamo idea quindi per quest'opera di bonifica enorme della renana appunto di cui ho parlato per sollevare le acque in in alto hanno progettato un sistema di 800 chilometri 800 chilometri di canali corredati di paratoie e idrovore e tutto questo è stato fatto a mano dagli scarriolanti in dieci anni dal 15 al 25 hanno sposato a braccia 12.000 metri cubi di terra 12.000 metri cubi sufficienti a riempire 600.000 camion da cava che messi in fila coprirebbero un tragitto lungo da bologna al polo nord 4200 chilometri quindi mettendo in fila le carriole hanno calcolato che la fila avrebbe fatto il giro di tutto il pianeta solo di terra che hanno tolto dalla pianura padana per il fiume reno e durante questo lavoro epico il reno tra l'altro è andato ben due volte distruggendo tutto e hanno dovuto rifarlo da capo quindi dopo un movimento terra di questo genere quale tipo di morfologia naturale ci può essere oggi io mi chiedo è normale che tutto spostando tutta questa terra noi non possiamo avere assolutamente idea di quello che c'era prima a livello di forma del terreno insomma e questo non l'hanno fatto solo questa volta prima di loro l'avevano fatto gli etruschi e prima avevano fatto i romani quindi questo insomma mi ha fatto pensare insomma che si tratti che insomma che noi di idrografia di fiumi naturali non possiamo averne assolutamente alba perché questo è stato fatto dappertutto tra l'altro il fiume a Venezia veniva chiamato rivo rio e significava canale e loro erano maestri nell'escavazione dei rivi insomma come sappiamo eh Venezia appunto ancora oggi porta quella che sono le i fasti antichi che avevano prima tutte le altre città come vedremo anche più avanti di essere completamente a base di canali perché appunto tutto veniva fatto tramite canali il trasporto su terra all'epoca non veniva proprio usato perché era non c'erano i mezzi era assolutamente più costoso invece loro utilizzavano soltanto le barche per fare qualsiasi cosa e questi canali collegavano tutto il mondo tutte le città addirittura ancora oggi ci sono i canali che da Ferrara ti portano a Venezia sono ancora quelli vecchi e tu puoi andare in barca da Ferrara a Venezia e poi e prima fino a poco tempo fa potevi andare anche a Bologna Bologna aveva un suo porto aveva dei suoi ammiragli e una sua flotta navale e tutto il mondo e tutta la tutti almeno tutta l'Italia ma tutto il mondo era collegato al posto delle strade avevano proprio i canali e tra l'altro utilizzavano anche a Venezia la prassi di costruire colline monti artificiali e ho trovato questa nota appunto tratto da un libro da dagli atti del convegno i ri di Venezia del 1985 dove parla di questo studioso veronese Giralomo Pracastoro che proponeva una soluzione nel quale la laguna avrebbe dovuto essere scavata in lunghi canali da est a ovest costruendo con il fango estratto altrettante colline coltivabili risolvendo così anche il problema della dipendenza dalla terra firma per i prodotti agricoli questo era quello che i romani chiamavano Vallum agere ovvero dallo scavo il materiale di risulta veniva utilizzato per costruire le mura o gli argini appunto e questo è soltanto un foglio noi diremo questa è soltanto una scritta ma io ho trovato delle prove visive che lo hanno fatto veramente perché questa è un'immagine di Venezia nel 1500 dove possiamo vedere che ci sono delle colline cioè che ci sono delle montagne dietro San Marco allora possiamo dire un errore prospettico si vedono i colli che stanno sulla sulle rive appunto invece no perché in quest'altra immagine che ho trovato a casa di un'amica dove si vede la città di Venezia sempre dello stesso periodo sempre cinquecentesca si vede appunto che queste isole erano tutte fatte di tutte fatte a colline tutte fatte appunto a costruzioni addirittura c'erano dei castelli c'erano delle chiese ma quella che era la costa odierna che vediamo era molto indietro e poi se andiamo invece al 1700 questa è un'altra immagine che si vede la costa indietro queste sono proprio vicine vicine a Venezia dove oggi c'è il completo piatto e infatti questa è un'immagine del 1700 dove non c'è nessuna collina non c'è nulla quindi pare che siano state quasi anche sbianchettate da quest'immagine sembra anche che qua ci sia del bianco non lo so che cosa è successo quanto sta che oggi Venezia si presenta così piatta mentre prima Venezia era montuosa quindi pare che questo intervento lo abbiano fatto il che mi ricollega sempre a quello che abbiamo letto che questa fosse una prassi molto diffusa in queste popolazioni che sembrano essere tutte così distanti tra di loro e invece facevano le stesse medesime cose per esempio quando noi parliamo di Venezia io ho scoperto questo grandissimo architetto ingegnere veneziano che però stava in Croazia era croato si chiamava Fausto Veranzio e lui aveva composto questo macchine nove dove tra l'altro aveva delle ha fatto delle invenzioni incredibili infatti lui ha inventato il ponte sospeso e ha inventato il paracadute e questa persona aveva tantissime invenzioni che venivano usate all'epoca tantissime macchine questa era una macchina di cui poi ho fatto vedere in una delle mie serie quella su Victor Schauberger un modellino era una draga che serviva per pulire i fiumi per pulire letti dei fiumi perché loro utilizzando sempre questa via di comunicazione avevano bisogno di mantenerla sempre perfettamente efficiente cosa che oggi non esiste più è per questo che oggi noi veniamo a poi tra l'altro lasciamo perdere quello che è successo ultimamente quello che hanno fatto ultimamente era una cosa assolutamente prevedibile anche se non avessero aperto avessero aperto delle dighe non si avessero inondati bastano veramente due piogge per inondare un fiume che ormai è profondo due centimetri perché nessuno l'ha mai pulito all'epoca loro ci tenevano tantissimo a questo perché lo utilizzavano e praticamente io ho anche notato che è stata una cosa che è successa varie volte anche quella di utilizzare proprio le esondazioni questa cosa l'ho fatta vedere anche nella mia serie appunto sui fiumi che non esistono in natura perché si diceva che gli dèi appunto anche in india e anche in egitto utilizzassero proprio quando volevano sterminare la popolazione facessero venire una piena nel fiume quindi aprissero delle chiuse che si trovavano nelle montagne facessero venire tantissima tantissima acqua in modo da distruggere totalmente il territorio ed è qualcosa che è stato insomma qualcosa che circolarmente si è visto nella storia e insomma io non penso che sia un caso quello che sia successo. Mi vengono in mente anche gli scenari alla Tolkien anche gli adattamenti cinematografici come per esempio nel film nella trilogia dell'Hobbit quando si vedono queste città sul fiume quindi anche qui che uno potrebbe dire Venezia ma se abbiamo visto come in realtà sia stata una situazione comune anche quegli scenari dove poi c'è la scena in cui viene scoccata la freccia al drago lì è esattamente una città come quella di cui ci stai raccontando tutta interamente fondata da canali con le barche eccetera. Devo rivedermelo perché non me lo ricordo perché l'ho visto tantissimi anni fa e adesso che mi ha detto questa cosa anche se non sono tanto amante dei film però quello lì me lo andrò a vedere. Fantastico. Infatti è così come vedremo anche più avanti c'è molto da dire su questo. Fatto sta che c'è un modus operandi unico che a noi sembra che abbiano frammentato in tante popolazioni che ci hanno separato. In realtà lo stesso lo stesso appunto mare adriatico prima si chiamava tutto Golfo di Venezia fino appunto alla Grecia si chiamava Golfo di Venezia e le stesse città si trovano su una costa e sull'altra di fronte a Bari c'è Bar in Montenegro di fronte a Bitonto c'è Bitronto sono tutte abbiamo Trani abbiamo Molfetta dall'altra parte abbiamo a Trani e abbiamo Amalfi a Vetrana abbiamo sempre gli stessi toponimi che ci rimandano a un'epoca in cui c'era un'unica civiltà che è quella di cui andremo a parlare insomma di cui io già sto parlando quella che noi pensiamo di poter chiamare Grande Tartaria volendo possiamo anche chiamarla così in realtà era appunto questo impero romano bizantino che eh di cui insomma a scuola non ci insegnano assolutamente nulla quando in realtà era talmente esteso ma talmente esteso che come vedremo nella loro cartografia si vedeva addirittura l'America del Nord e e si vedeva che c'erano le medesime usanze gli stessi vestiti e gli stessi ehm la stessa le stesse architetture anche nell'America del Nord eh uguali identiche a quelle che che noi possiamo vedere per esempio a Venezia perché era uno stile veneziano e si chiama proprio stile bizantino che è quello delle chiese russe e se noi ci guardiamo attorno nel territorio queste cose le possiamo notare per esempio io quando sono stata in Croazia ho notato una cosa che mi ha ricordato tantissimo quello che avevo letto appunto nel D'architettura libro 8 di Vitruvio di cui adesso vi leggerò un pezzetto qui parla di come si trovano le acque e dice quando tu trovi le acque se fai fatica devi andarle a le devi portare su cioè se tu non trovi un fiume già fatto se tu non trovi dell'acqua che già scorre sulla terra una sorgente una fontana già aperta devi cercarla lui spiega come si cerca e poi dice questo niente meno che se in quel luogo si situi una lucerna accomodata piena d'olio qui spiega come si deve fare a trovare l'acqua dice perché il calore attrae a tutto l'umido finalmente se facendosi in quel luogo del fuoco la terra riscaldata e bruciata solleva vapori nuvolosi allora si avrà l'acqua fatti questi tentativi e trovati descritti segni di acqua allora si profonderà un pozzo e se si troverà il capo dell'acqua se ne caveranno molti attorno tirandone per mezzo di spelonche la comunicazione tutta in uno stesso luogo quindi lui parla di fare una serie di grotte per portare tutte le acque che si trovano tutte le vene di acqua in uno stesso modo le spelonche sta parlando delle stesse cose che abbiamo letto nella trasis quindi scavando delle camere nella profondità della terra per portare tutte le acque in superficie e Vitruvio riceva le medesime cose che si doveva scavare e farne delle spelonche diceva questi capi si hanno a cercare soprattutto nei monti perché insomma nei monti si trova dell'acqua migliore poi lui racconta esattamente come vanno fatte queste spelonche queste grotte come vanno fatti i condotti quanto devono essere larghi di che cosa devono essere fatti che si devono creare degli spiatatoi perché altrimenti quando arriva la pressione dell'acqua può spaccare tutto quanto e lui parla anche di un'altra cosa che a me mi ha sconfifferato parecchio a noi hanno raccontato che il termine castello i grandi castelli fortificazioni che noi abbiamo nelle nostre città insomma nel nostro territorio proviene dal termine romano castrum per accampamento invece castellum in latino era il castellum acque quindi il castello era un'altra cosa lui diceva in tre modi si può trasportare l'acqua o per condotti di fabbrica o per canne di piombo o per tubi di creta ed ecco le regole ciascuno se per condotti la fabbrica sia quanto più soda si può eccetera 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 e sia la fabbrica coperta a volta a ciò che il sole non offenda l'acqua giunta questa alla città si farà un castello con accanto tre emissari per ricevere l'acqua nello stesso castello vanno situate tre cannelle ugualmente distribuite tra gli emissari questi uniti in modo che solverchiando l'acqua dei due estremi trabocchi quel di mezzo in questo mezzo si faranno poi le cannelle per tutti i laghi allora ci sono delle note in calce che dicono questo castello questo era un ingegnere settecentesco napoletano che fa le note in calce a vitruvio castello si intende una fabbrica che conteneva delle cisterne pensili per ricevere l'acqua che veniva per gli acquedotti per potersi comodamente di là a farne le necessarie distribuzioni quindi loro facevano questo castellum aquis che erano delle cisterne rialzate in questo grande castello che poi trasportava l'acqua e la trasportava come vedremo qua attraverso tre cannelle la trasportavano per i bagni pubblici oppure l'altro cannello andava alle fontane e l'altro per i laghi diceva accanto al castello si costruivano tre cisternone ricettacoli i due laterali più alti uno e mezzo più basso con dei canali che dal castello trapassassero l'acqua nei ricettacoli e da quei ricettacoli laterali trapassassero l'acqua soverchia in quelli in mezzo da uno dei laterali partivano l'acqua per i bagni pubblici dall'altro partivano per le case private addirittura insomma nell'antica roma le stesse cose che abbiamo visto poi ad atene e dall'altro e da quello di mezzo per le fontane per i lavatoi pubblici questi erano i castelli grandi e dirò così principali che avevano ogni acqua alle mura della città da frontino si ricava esservi stati moltissimi castelli particolari per mezzo della stessa città che servivano forse per la suddivisione della stessa acqua allora io quando ho letto vitrù mi ho detto ma dove sono questi enormi castelli romani questi enormi castellum aquis perché non riuscivo a vedere perché mi immaginavo i romani e non vedevo dove potevano essere questi castelli poi dice un'altra cosa dice appunto che li dovevano trasportare ai laghi e questa è appunto la nota in calce laghi erano specie di fonte pubbliche ovvero la plebe lavava i suoi panni e si provvedeva per ogni suo bisogno inclino a credere che fra l'acus e salientes vi sia questa differenza l'acus era la conca ove si riceveva l'acqua dalle cannelle salientes erano le fontane con cannelle orizzontali sarebbero da esaminarsi se si dice bene il nardini ove ha creduto che molti l'acus che si trovano nominati dentro roma siano stati veri laghi prodotti d'acqua e piovani e sorgenti mentre non potendomi immaginare che la polizia romana avesse potuto permettere queste immondizie dentro la città credo più facilmente doversi intendere per laghi artefatti ossiano conche di fontane quindi qua lui parla del fatto che i laghi erano appunto delle grandi fonti pubbliche io questa cosa queste qua sono delle immagini di come dovevano essere essere questi castellum aquis con questi acquedotti romani e poi mi sono accorta che le cose ce le avevo proprio davanti agli occhi perché i castelli effettivamente qua abbiamo cavo alla grecia noi abbiamo sempre un enorme castello che poi che le cui mura poi vanno verso il basso e si fanno praticamente tutto il perimetro delle città e assomigliano molto a quello di cui ci parlava vitruvio tra l'altro hanno forma di cisterne questa per esempio è salerno quando sono andata dentro al castello arechi dentro ci sono tutte le forme delle cisterne romane e io ho detto ma queste erano delle cisterne e infatti dove va questo questo castello trasporta va a finire nell'acquedotto medievale lo chiamano che però è uguale a uno romano allora noi ci chiediamo come fanno essere uguali vabbè e quindi poi quando sono andata a Vrana in Croazia ho visto la stessa medesima cosa che ho trovato una grotta ma questa grotta che dicevano che era naturale aveva tutte le tutti i crismi detti da vitruvio intanto aveva un pavimento in cocciopesto poi aveva delle cannelle laterali oltre a quello principale che trasportavano l'acqua vedi questa è una cannella eh laterale che erano fatte di un altro di una specie di materiale cretoso proprio come diceva vitruvio veniva da dentro la montagna aveva addirittura dei buchi degli sfiatatoi come diceva lui proprio per non fare rompere la fabbrica dalla eccessiva pressione delle piogge e portava l'acqua a questo castello questo castello dove aveva ancora tutti i fossati per il trasporto dell'acqua e questo castello portava l'acqua a un bagno turco quindi c'era questa strana costruzione che a partire da una grotta diventava un canale romano che poi portava l'acqua a un castello medievale che poi portava l'acqua a un bagno turco quindi in realtà era un'unica opera che ci hanno spezzettato in tantissime diverse parti ma faceva parte di un'unica cosa e usava gli stessi crismi di vitruvio quindi davanti a questo bagno turco dove va poi il canale dal bagno turco porta l'acqua a un lago quindi ho detto ma che cosa strana tra l'altro questo lago che è il lago di Vrana a me ricorda tantissimo quando lo guardo poi considerando che questa era tutta una zona sotto l'influenza veneziana le forme che si vedevano dei delle colline che erano state fatte dentro Venezia e allora che cosa è successo l'altro giorno mi trovavo in Puglia insomma sono andata a vedere Torre Lapillo Torre Lapillo queste sono le torri saracene che praticamente si fanno tutte le coste tutte le coste sicuramente della Puglia ma vanno avanti anche in campagna ci sono sono convinta che saranno un po' dappertutto fatto sta che sicuramente si fanno tutta la costa della Puglia e assomiglia a questa scala che hanno molto ad un acquedotto romano e queste sembrano delle grandi torri che sono sempre come vediamo queste si trovano sul mare e sono collegate a un canale un canale antico che poi porta l'acqua dentro e dentro queste torri hanno tutta la forma delle cisterne allora ho pensato ma non è che questi castrum cioè che questi castellum aquis siano i veri e propri castelli cioè che i castelli possano essere degli acquedotti effettivamente ho visto poi un acquedotto in Lucania ancora fatto così che non sono riuscita a fargli le foto ma un acquedotto che sono delle varie torri che trasportano l'acqua giù per la montagna per farla arrivare al centro abitato e poi ho avuto la fortuna di vedere un'altra torre una torre privata molto simile alla torre Lapillo sono tutte torre che sono molto simili in Puglia quando sono andata sul tetto che cosa ho trovato che sul tetto era un enorme cisterna quindi era rimasto ancora l'utilizzo che c'era inizialmente e tra l'altro trasporta talmente tanti metri cubi d'acqua che deve essere stato veramente ci deve essere stata dietro veramente una grande conoscenza ingegneristica perché un volume di acqua così enorme per una torre così vecchia e tra l'altro dentro non c'erano neanche infiltrazioni di nessun genere quindi questa cosa mi ha fatto pensare insomma che quando si parla di castelli stiamo parlando di qualcosa che faceva parte sempre dell'impianto idraulico di cui anche i fiumi erano parte quindi di un enorme impianto di approvvigionamento idrico per una civiltà che appunto aveva queste caratteristiche molto simili tra di loro e che noi riscontriamo in tutte queste diverse popolazioni che sono lontanissime tra loro nello spazio tempo questo è un altro castello Torre Astura si vede benissimo che insomma è un castello con un acquedotto e quindi questo tipo si vede che può riportare all'idea insomma che si trattasse di un impianto idraulico infatti tutti sappiamo che una volta i castelli non avevano finestre sono state fatte dopo e probabilmente quindi faceva parte di un unica di un unico tipo di opera insomma e in Croazia si vedono tantissime di queste cose queste stone si vedono proprio queste queste muraglie che portano da sopra queste mura che vanno fino fino alla città marostica la stessa cosa vicino vicino a Verona insomma Venezia per quale motivo fare queste cose così complicate veramente per difendere una città che veramente basterebbe uno sputo per saltare cioè sono veramente basse secondo me potevano avere veramente un'altra utilità perché erano esattamente corrispondenti a quello che raccontava Vitruvio la muraglia cinese la vedo uguale vedo uguale questo invece è un paese vicino a Napoli vediamo le stesse cose insomma e quindi questo è quello che io ho notato insomma che ci troviamo in questa in questa condizione in cui si vede che queste città sono sorte insieme ai fiumi si sono gli stessi nomi ridono si trova dappertutto tutte queste città erano idraulicamente enormemente avanzate molto più di quello che ci hanno raccontato però quando vai a leggere i loro studi gli archeologi parlano sempre di modernità delle loro tecniche una modernità che all'epoca di cui parliamo era veramente impossibile e tutti ci raccontavano che i loro fiumi ne hanno stati scavati artificialmente abbiamo le stesse tecnologie le canalizzazioni i sostegni per sollevare le acque gli acquedotti per pressione a caduta le tubature i castelli i templi e poi anche le piramidi e che sono sempre collegate alle acque si possono iscrivere in questa medesima cosa le chiese con i pozzi dentro quindi insomma ci troviamo di fronte a quest'unico modus operandi che è stato spalmato nei millenni nel mondo ad opere di popolazioni lontanissime tra loro oppure ci troviamo di fronte a un'unica popolazione questo esempio di gallipoli vediamo sempre questa città come si vedeva anche di ferrara con queste mura attaccata appunto a stretto contatto con l'acqua con queste mura gigantesche sempre con questi medesimi queste taranto queste san pietroburgo sempre con questi fiumi queste atrani costiera amalfitana queste è in virginia vediamo sempre queste resti di fortezze stellari nell'acqua e poi vediamo per esempio questa costiera amalfitana stessa cosa vediamo queste stesse strutture queste cupole come a istanbul e quindi erano veramente tante civiltà oppure era un'unica grande civiltà che è sparita poteva essere atlantide poteva essere tartaria e di questo parleremo nella prossima puntata insomma di quello che l'idea che mi sono fatta io di che cosa servissero tutte queste grandi infrastrutture idrauliche e tra l'altro ho voluto chiudere con quest'immagine che ho preso ad amalfi questa era la pianta della città come era prima del maremoto del 1313 che distrusse le mura verso mare la cittadella e la parte del litorale anche qua con questo fiume all'interno della città che va fuori dalle mure la puntata precedente ci ha lasciato più domande che risposte e oggi avremo altrettante domande da lasciare in sospeso però saranno tanti spunti di riflessione e è qualcosa di carino potrebbe scattare nella testa delle persone si potrebbero iniziare a fare nuove ricerche la volta scorsa abbiamo incominciato dalla mia constatazione dalla mia intuizione guardando appunto la storia l'origine dei fiumi del fatto che io non ho trovato prove del fatto che i fiumi siano mai nati naturalmente anzi ho trovato sempre soltanto prove del fatto che i fiumi facessero parte di un complesso di infrastrutture idrauliche e abbiamo visto un pochino di indizi insomma di questa cosa e abbiamo incominciato anche a farci qualche domanda e a fare qualche collegamento possibile con quella che poteva essere una civiltà scomparsa che utilizzasse questo genere di via di comunicazione di infrastruttura e per che cosa la potesse utilizzare abbiamo incominciato a vedere intanto nelle nostre città quelli che sono ancora i resti di tutta una vecchia infrastruttura che è stata in parte anche demolita ma di cui rimangono ancora tracce come per esempio io ho fatto vedere l'esempio di Ferrara del fatto che ci fosse un forte stellare che passava appunto all'interno delle mura con all'interno sempre dei canali appunto che stavano attorno alla città e che così fosse per tantissime città forti stellari che sono stati distrutti o disattivati perché è stata tolta l'acqua in tantissimi posti è una cosa che è stata già indagata insomma nei discorsi che parlano delle teorie di Tartari appunto e oggi volevamo andare avanti insomma inizio a fare la condivisione mentre tu condividi lo schermo io saluto di nuovo tutti i chat fedelissimi veterani abbonati e anche i nuovi arrivati perché so che spesso l'argomento Tartari attira anche nuovi ascoltatori o ascoltatori meno diciamo così abitui rispetto al solito però è fondamentale perché è un ottimo cavallo di troia perché vediamo dove ci porterà sì diciamo che sì ci siamo lasciati con un quesito l'ultima volta tutto questo genere di infrastrutture e di che non sono soltanto idriche ma come in Tartari si guarda spesso si tratta per la gran parte anche ancora di edifici che sono rimasti che avevano una determinata forma in tutto il mondo ritrovati in tutto il mondo anche nelle Americhe che poi sono stati in gran parte distrutti e quindi la domanda è ma si tratta di una grande civiltà sparita durante un diluvio Atlantide? Tartaria? Perché noi sappiamo che anche Atlantide è sparita durante un diluvio e aveva questo genere di architettura particolare che utilizzava tantissimo l'acqua e oggi noi ci vogliamo concentrare su questo in generale proprio sulla questione energetica dell'acqua che è un po' la mia passione come chi mi conosce sa per quanto riguarda la questione storica riguardo al tipo di rapporto che ci può essere tra queste due civiltà tra Atlantide e Tartaria io sto facendo una serie sul mio canale che si chiama la vera storia dell'umanità prima del reset del 1776 e quindi rimando le persone magari a vedere più la parte storica in quella sede perché questa è una sede nuova quello che devo anticipare è che io mi sto trovando molto bene a spiegare queste cose utilizzando un nuovo tipo di cronologia che poi non è poi così nuova ma è la cronologia che è stata ricalcolata dall'università di Mosca l'università di statistica di Mosca appunto negli anni 70 guidati dal professore Anatoli Fomenko che mi sta dando molte molte soddisfazioni in questo senso perché si ricollega tantissimo a molte cose che io ho riscontrato a livello archeologico però è un altro discorso però devo dirlo perché appunto l'altra volta abbiamo incominciato a vedere la questione del castello Macque di Vitruvio e l'ho collegato con i castelli medievali che noi vediamo e una persona che non sapesse che io utilizzo questo diverso tipo di cronologia potrebbe chiedersi ma che cosa cavolo c'entra Vitruvio che era un romano, un antico romano con i castelli medievali questo perché appunto grazie agli studi sulla nuova cronologia si scopre che a livello matematico sono stati fatti questi studi per cui è una cosa abbastanza precisa e che dà adito a pochi dubbi però mettiamoci sempre il condizionale pare che gli antichi romani in realtà fossero vissuti si trattasse dell'impero romano bizantino medievale impero appunto che ha abbracciato gran parte del mondo e che quindi fosse medievale per cui tutte le architetture medievali siano in realtà scrivibili secondo questo tipo di cronologia proprio ai romani perché i romani in realtà non stavano duemila anni fa quindi questo è un po' quello che bisogna tenere presente e per cui questa cosa ci permette di guardare il mondo con occhi differenti perché altrimenti noi possiamo avere davanti a noi una realtà che però ci è stata frammentata a livello cronologico a scuola in modo che noi non riusciamo a fare i collegamenti perché ci hanno già detto di che anno è da chi proviene, chi l'ha fatta quando in realtà noi dobbiamo un attimo resettare tutto questo fare finta di non sapere nulla di quello che ci hanno raccontato a scuola e guardare il mondo sempre attraverso i nostri occhi cercando quindi di collegare con quello che noi possiamo vedere anche a livello di testi per cui Vitruvio in questa circostanza sempre secondo questi studi ed è una cosa che come ho fatto vedere appunto nelle altre conferenze che ho fatto al riguardo è una cosa appunto che io ho riscontrato proprio a livello archeologico proprio studiando certi acquedotti soprattutto anche quello della città di Bologna Vitruvio in realtà potrebbe essere stato un riflesso fantasma cioè durante questo grande reset in cui sparisce Tartaria alla fine appunto del Settecento quando nascono gli Stati Uniti d'America viene riscritta la storia dai vincitori che erano stati Romanov che hanno fatto che cosa? creato un novus ordo secolorum come appunto si vede nella piramide Collocchio che significa hanno dato un nuovo ordine ai secoli cioè hanno rimescolato la cronologia perché dovevano mescolare un po' le acque perché dovevano delegittimare e fare dimenticare il passato di questo grande impero che c'era stato prima di loro e che loro avevano dissolto in modo un po' da legittimare la loro presa di potere perché altrimenti le popolazioni avrebbero potuto essere troppo nostalgiche per questo motivo c'è stato un grande reset attuato con grandi guerre grande spargimento di sangue e anche una nuova riscrittura della storia e catechizzazione, scolarizzazione delle persone a cui è stata raccontata una storia totalmente sballata nel giro di qualche generazione questa nuova versione storica che è fatta di antichi romani antichi greci eccetera 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 si è sedimentata e oggi noi siamo ancora il risultato di questo genere di scolarizzazione che però dobbiamo un attimo dimenticarci se vogliamo cercare di capire qualcosa di quello che vediamo sul territorio per cui detto questo andiamo avanti per la nostra parte di oggi quando ero all'università non mi hanno mostrato io ho fatto geografia per cui quando ho dovuto ricostruire la genesi della mia città ho utilizzato tutte le carte e ho utilizzato tutti gli antichi testi storici che riguardavano la genesi dei fiumi la genesi del fiume Po non mi avevano mai mostrato però la cartografia ottomana che pure invece era molto più vicina rispetto a tante carte mi dicevano che c'era un grande buco temporale che prima del settecento dal trecento a settecento più o meno non avevamo idea di come fosse la morfologia fluviale della città invece durante l'epoca ottomana questo grandissimo cartografo Piri Reis che è diventato anche famoso per avere dipinto la mappa con la presunta rappresentazione dell'Antartide insomma e altre terre oltre l'Antartide Piri Reis aveva questa è proprio una rappresentazione della città di Ferrara quindi si vede benissimo com'era il fiume all'epoca e vediamo che la città era completamente diversa da come si presenta oggi perché c'erano tutte queste torri che erano fatte a punta avevano questo genere architettonico molto particolare appunto molto arameggiante possiamo dire e possiamo dire anche che questo tipo di carte era molto preciso perché siccome lo usavano per la navigazione e lo usavano anche per fare commercio e anche pirateria avevano necessità di avere una mappa del territorio fatta molto bene perché dovevano inoltrarsi in questi territori quindi guardando quest'Atlante che è stato pochissimo studiato si vede che tutto il mondo era molto simile riguardo alle architetture questa è Venezia che come vediamo è molto diversa da quella di oggi vediamo sempre questi fiumi vediamo sempre queste architetture con queste torri a punta queste sono città della costa marchigiana per esempio anche queste sono molto diverse da quelle che ci ritroviamo oggi sono fatte in questi modi vediamo sempre questi fiumi che escono anche questa è Alessandria d'Egitto vediamo com'è simile anche questa e vediamo sempre questi fiumi che portano l'acqua proprio al fossato attorno alla città cosa che quindi ci fa pensare che siano quindi canali ovviamente canali artificiali addirittura in questa mappa è ritratta l'America e l'America come possiamo vedere adesso qua ho fatto un piccolo ingrandimento aveva sempre non si vede molto bene ma aveva le città dallo stesso stile sempre molto possiamo vedere un po' in basso sulla destra sempre molto tartarico potremmo chiamarlo e le persone che ci abitavano erano molto simili a dei turchi come possiamo vedere col turbante dipinti nello stesso modo in cui venivano dipinti i turchi e poi questa è la tavola di Amalfi famosissimo testo di diritto marittimo appunto della città di Amalfi che è stato utilizzato anche a Costantinopoli è diventata la legge dell'ammiragliato per antonomasia per chi si interessa anche di questo argomento e anche qui vediamo che abbiamo gli stessi tipi di disegni anche nella stessa Italia e senza starvelo a far vedere ovviamente poi in America noi abbiamo molte foto che ritraggono che c'erano appunto questi edifici con cupole dallo stile tartaro anche lì tant'è che si è pensato che potesse essere appunto una vestigia di tartaria ma quello che mi interessava far vedere era che appunto tutte le città del mondo erano dipinte in modo molto simile come se veramente ci fosse un'unica cultura che aveva colonizzato tutto il mondo e questo si spiega molto bene appunto con la nuova cronologia di Natoli Fomenko che è quest'impero della grande Russia Russia d'Ordia Russia d'Ordia scusate che finì poi nel 1776 quando l'ultimo pezzo tartaria venne ceduto dai Romanov agli Stati Uniti d'America e quindi in questo caso quindi stiamo parlando anche storicamente di vestigia di questo vecchio impero quindi quello che noi abbiamo potuto vedere è che queste città erano parte di un gigantesco sistema un enorme sistema collegato tra loro da fiumi e tutti questi fiumi in realtà erano evidentemente dei canali ed erano risultato di raffinata ingegneria alcuni erano lunghi moltissimi moltissimi chilometri e poi che c'erano questi collegamenti con il mare città stellari forti distrutti fiumi cambiati però noi ancora oggi possiamo vedere tutto questo se abbiamo l'occhio un po' curioso e aspetta dunque quando parliamo abbiamo parlato l'altra volta del mito di Atrasis che parla della fondazione di Eridu appunto perché faceva parte dell'etimologia del nome Eridano che ero andata a ricercare appunto Atrasis è il primo racconto che noi conosciamo del diluvio universale appunto anche qua si parla di questo diluvio proprio come in Tartare proprio come su Atlantide e addirittura come noi sappiamo il racconto Atrasis è quello che ha dato origine al racconto della genesi biblica e Mauro Biglino aveva fatto una traduzione secondo la quale si parlava addirittura della produzione di energia idroelettrica oltre alla questione dell'ingegneria idraulica proprio nella Bibbia che era presa da questo testo sumero quindi qua ci viene da pensare questi fiumi potevano avere qualcosa a che fare con la produzione e la distribuzione di energia siccome appunto come abbiamo visto sia Atlantide che Tartaria sono due teorie che parlano dell'utilizzo di un diverso tipo di energia di una tecnologia avanzatissima riconducibile un po' quella dell'energia scoperta da Nikola Tesla ma non solo da tanti altri scienziati soppressi che oggi vedremo un pochino ma se vuoi facciamo prima di tutto un piccolo ripassino su Tesla e sul tipo di scoperte che lui aveva fatto ovviamente nessuno di noi è un fisico non sappiamo perfettamente come tutto ciò funzionasse però quello che possiamo dire che abbiamo ricostruito insomma negli anni è che lui aveva scoperto come imbrigliare l'energia dell'etere che viene anche chiamato vuoto oggi ma che vuoto non è è pieno ed è un grandissimo fluido è un superfluido idrodinamico che si muove esattamente come l'acqua lui aveva scoperto che questo tipo di energia si propagava attraverso un tipo di onda differente da quella trasversale elettrica ed era molto simile a un'onda sonora lui la chiamava onda sonora elettrica perché proveniva nel nostro caso della nostra terra era un'energia che proveniva dalla risonanza cioè questo battito che viene prodotto all'interno della ionosfera della cavità tra la ionosfera e la terra praticamente il battito la pulsazione di questa terra che produce appunto queste onde stazionari che sono un'onda diversa è un'onda che praticamente permette all'energia il segnale di attraversare tutta la terra in un'unica pulsazione come le onde del mare che dal centro si propaga verso l'esterno e poi ritorna e siccome questo tipo di energia si propagava in tutta la terra nello stesso identico momento imbrigliando questa energia si poteva ottenere l'energia gratuita e essendo l'energia della terra non era energia elettromagnetica perché è un'energia pulsata differente su onde longitudinali come quella che utilizzano i nostri corpi tra l'altro i biofotoni per cui non era neanche pericolosa per la salute quindi il fenomeno con cui si propaga e con cui si riesce a imbrigliare insomma è detto risonanza io ho fatto molti video su questo e posso rimandare magari in bibliografia sotto il video possiamo mettere qualche link perché sono tutti argomenti un po' o c'è un pochino ostici ormai tutti li mastichiamo un po' di più però magari c'è bisogno di ripassarli un attimo questo fenomeno è un fenomeno che è noto in musica è l'effetto che amplifica i movimenti lievi rendendoli più ampi è un aumento di oscillazione quindi noi abbiamo idea per esempio quando una lirica prende il bicchiere e con la voce riesce a romperlo perché trova l'esatta frequenza di risonanza perché tutta la materia è oscillazione di elettroni trovando l'esatta frequenza con cui vibrano quegli elettroni si rompe il bicchiere quindi questo è il fenomeno della risonanza che ti può permettere come nel mare come nell'altalena che tu da una piccola spinta l'oscillazione aumenta sempre di più quindi in questo modo lui era riuscito a ottenere aumenti di differenza di potenziale quindi di voltaggio e di frequenza praticamente illimitati lui che cosa ha fatto? ha utilizzato le sue conoscenze tra virgolette di musica ha costruito questo trasformatore che si chiama bobina di tesla che sfruttava questo principio erano due circuiti elettrici risonanti quindi accordati l'uno all'altro una bobina con pochi rivolgimenti di rame la seconda accordata però con molti più rivolgimenti di rame in modo da amplificarlo e in questo modo lui è riuscito quindi a dimostrare la trasmissibilità dell'energia senza fili perché questo tipo di energia utilizza sia la ionizzazione dell'aria e sia addirittura i corpi stessi messi insieme come delle bobine di tesla risuonano e quindi le lampadine si accendono e tra le varie cose che lui aveva scoperto aveva capito che la terra ha questa carica elettrica negativa che oggi tutti conosciamo perché tutti utilizziamo l'impianto di messa a terra anche quando attacchiamo la corrente e c'erano due modi principali con cui si poteva prendere l'energia una sfruttando proprio il fatto di questa differenza di carica che c'è tra la regione alta dell'atmosfera la ionosfera e la terra perché la ionosfera ha carica positiva e la terra ce l'ha negativa io spero penso di dire delle cose giuste magari non è che sono un'ingegnere elettronica purtroppo quindi questa differenza di potenziale che c'è tra queste due regioni è di 400.000 volt ed è quindi una gigantesca batteria e poi dall'altra parte senza usare questo tipo di trasmissione la terra di per sé è un grande condensatore di energia che può essere usata lui ha mostrato per far funzionare qualsiasi tipo di apparato senza fili wireless perché appunto in prossimità della superficie c'è questo onnipresente campo elettrico di 100 volt metro che è diretto verso il basso che è quella che noi conosciamo come forza di gravità invece è corrente elettrica di terra è il filo di terra che trasporta le informazioni che va verso il basso e di questo magari riparleremo tra un pochino questa energia che lui ha scoperto non è bipolare è monopolare è neutra quindi dunque non ci sono tutti i problemi legati ai cortocircuiti al bipolarismo ed è una corrente pulsata e fino a una frequenza di determinati minuti insomma determinati hertz non penso che siano hertz micro non mi ricordo qual è il genere di comunque fino a una determinata frequenza non è neanche dannosa per la salute è quella che noi oggi possiamo conoscere come neutrini e e niente lui aveva scoperto questo che con un trasmettitore con una bobina fatta da lui sintonizzata su questa frequenza di risonanza della terra che poi è stata chiamata risonanza Schumann anche se l'ha scoperta lui o una delle sue varie armoniche nel 432 hertz ci sono tutte queste armoniche appunto è stato sufficiente per attingere a questa energia proprio come una pompa questo era il tipo di esempio che faceva lui è come se ci fosse una pulsazione interna alla terra e si può estrarre da ogni parte della terra come se fosse proprio una pompa ora veniamo a un altro dei grandi scienziati soppressi che veniva chiamato il Tesla dell'acqua perché stiamo parlando di fiumi e di acqua che era Viktor Schauberger lui aveva scoperto come imbrigliare lo stesso tipo di energia che faceva sempre parte dell'energia del vuoto ma lui l'aveva presa dall'acqua dai vortici implosivi che si formano perché il vortice implosivo è il movimento naturale dell'acqua quando noi tiriamo per esempio via il tappo dal lavandino lo vediamo molto bene quello che succede all'interno quando l'acqua scende si crea questo vuoto lì dentro si creano queste correnti appunto sono correnti dove si sviluppano anche questi neutrini possiamo chiamarla energia scalare energia magnetica ed è levitativa perché risucchia verso l'alto un po' come fa il tornado hai presente un tornado che cosa fa con l'occhio del ciclone risucchia verso l'alto questo è il contrario della gravità praticamente come aveva scoperto Viktor Schauberger e questo tipo di energia che Tesla aveva scoperto si trasmetteva nell'aria perché in aria sono sempre presenti vescicole di acqua come è stato scoperto poi anche ultimamente da un altro grande scienziato che tra un po' vedremo che si chiama Gerard Pollack perché l'acqua appunto sì l'acqua e l'aria intanto sono come aveva già scoperto lui sono semplicemente due stati della stessa materia perché mettendo sottoponendo a pressione l'acqua l'aria si trasforma in acqua e togliendo pressione l'acqua si trasforma in aria quindi praticamente è la stessa identica cosa e quindi questo era il modo insomma in cui si ionizzano anche si ionizza l'atmosfera si può utilizzare l'energia di Tesla perché appunto il segnale la viaggia anche attraverso queste vescicole che vedremo adesso e Viktor Schauberger la cosa carina è che è stato ispirato dai vecchi alchimisti come il grande Paracelso nei suoi studi e Paracelso sappiamo che aveva studiato proprio a Tartaria questo lo sanno proprio gli studiosi Hartman il magico mondo di Paracelso lo dice per cui una cosa interessante pensare che abbiamo proprio questo collegamento diretto tra questo tipo di energia e la stessa Tartaria tra l'altro Paracelso ha studiato nella stessa città mia che era Ferrara quindi ho voluto mettere anche questa foto perché ne vado molto molto fiera quindi come abbiamo un attimo accennato Schauberger ha scoperto proprio come si utilizzano le energie che sono contenute nell'acqua che sono energie di diverso tipo energia di elettrica magnetica longitudinale scalare chi più ne metta a seconda del movimento che tu fai prendere all'acqua scatene un diverso tipo di energia che viene contenuta e quindi lui attraverso questa sua conoscenza aveva scoperto proprio come creare gli UFO tant'è che è stato assoldato dai nazisti per costruire il primo UFO e utilizzare appunto l'antigravità e anche energia illimitata e gratuita per fare utilizzare qualsiasi tipo di apparato aveva fatto condizionatori riscaldamento generatori di corrente aveva fatto qualsiasi cosa soltanto utilizzando l'acqua e questo movimento del vortice implosivo che lui chiamava anche curva spazio cicloidale perché è il movimento naturale della Terra e dei pianeti che produce appunto questo quello che chiamavano gli antichi sole nero che è un vuoto biologico all'interno che dà origine a questa corrente magnetica che è formativa e levitativa al contrario di quella elettrica e questa corrente che lui ha scoperto che in realtà hanno scoperto in tanti è alla base della nascita della vita perché tutta la natura crea utilizzando queste forme come noi sappiamo la sequenza di Fibonacci perché è lo sviluppo di questo vortice attraverso l'acqua che segue questo movimento appunto e lui come ha scoperto tutto questo? Proprio partire dallo studio dei fiumi lui aveva scoperto e questa è stata una delle prime obiettioni che mi aveva fatto il mio professore quando il mio professore di geologia quando gli ho provato a chiedere a far vedere questo mio studio sul fatto che trovavo queste prove sul fatto che i fiumi fossero artificiali lui mi ha detto ma perché avrebbero dovuto creare dei fiumi con i meandri? Quando poi sono andata anni dopo a studiare Victor Schauberger la risposta si è data da sé lui ha scoperto che l'acqua dei fiumi siccome l'acqua fa questo movimento naturalmente di vortice e praticamente oscilla da una parte all'altra quando i fiumi sono meandriformi l'acqua può vorticare può cambiare quindi di stato si può rigenerare si raffredda si purifica e al suo interno si generano diversi tipi di correnti noi possiamo vedere un fiume di montagna con molto movimento il colore della sua acqua e invece possiamo vedere un fiume un canale artificiale di cemento dritto con l'acqua stagnante lui aveva scoperto il perché era questo il motivo stava proprio nel tipo di forma che l'acqua segue e quindi il tipo di forma che il condotto deve avere per permettergli di continuare a condurre e non dissipare la sua energia un po' come in elettronica si usano i cavi di rame riavvolti perché si sa che gli elettroni girano e allora per non fargli avere resistenza si fanno già i condotti si fanno già appunto i cavi di rame vorticanti in modo che seguono direttamente il loro movimento la stessa cosa succede come aveva scoperto Schauberger con l'acqua che se si utilizzavano dei tubi vorticanti in rame gli si permetteva di avere la sua il suo movimento naturale per cui tutta l'energia contenuta non veniva dissipata la stessa cosa succede con appunto i fiumi che se sono meandriformi permettono all'acqua proprio questa cosa quando poi scade dopo ci ricolleghiamo direttamente infatti sono stati fatti degli studi che hanno dimostrato e ho fatto appunto un ho tradotto il documentario su Victor Schauberger sul mio canale in due parti dove si vede appunto questo che hanno fatto delle misurazioni sui canali sui fiumi meandriformi e hanno trovato che all'interno si genera una corrente e quindi l'hanno chiamato il generatore fluviale quando invece hanno fatto questo studio sopra i canali dritti non c'era nessun tipo di corrente all'interno parliamo di correnti proprio elettriche insomma di questo e quindi questo tipo di energia non è solo elettrica ma è diversa l'elettricità come abbiamo detto è una parte di questa energia che è quella su cui lui tra virgolette che a lui piaceva di meno dall'altra parte c'è l'energia magnetica che permetteva proprio sia la levitazione e lui l'ha scoperto perché vedeva che le trote riuscivano ad andare contro corrente perché prendevano questi vortici al contrario in modo che veniva risucchiata in alto e da questo lui ha tratto tutti i suoi studi tra cui gli UFO e l'antigravità per cui sono cose molto carine interessanti e tra l'altro l'altra volta abbiamo visto che per esempio le sorgenti nascono molto spesso da quelle che sono delle teste delle fontanelle come tu mi hai fatto l'esempio appunto della tua città Torino e ho fatto vedere proprio la sorgente del Reno a Bologna che è proprio una fontana e come fa a diventare poi quell'enorme gigantesco fiume gigantesco che ha seminato distruzione in tutta la pianura lui aveva scoperto sì c'è sia l'opera dei vari affluenti ma l'acqua attraverso questo tipo di movimento mangia ossigeno si ristruttura e praticamente aumenta di volume per cui l'acqua cresce respirando all'interno dei sassi da poca diventa tanta quindi praticamente si crea materia attraverso questo tipo di è come se lui ha scoperto che dallo spirito dall'invisibile attraverso questo movimento ci si incarna in materia infatti si è scoperto proprio che è il vortice cioè come per esempio è il vorticare degli elettroni la differenza tra l'etere l'invisibile e il visibile la differenza è soltanto che dove c'è materia etere invisibile c'è un mare che fluttua tranquillo dove invece c'è vortice e lì si raggruma si raddensa la materia e questo dicevano tutti i grandi alchimisti antichi e ha dimostrato sia Schauberger che anche Todeschini su cui ho fatto sempre dei video nel mio canale soprattutto nella serie La nascita di Dio dove ho trattato tutte queste cose a cui rimando le persone che volessero saperne di più quindi riguardo l'elettricità e il magnetismo nello specifico queste sono frasi di Victor Schauberger elettricità e magnetismo sono ottave più alte perché si tratta sempre comunque di una vibrazione sonora che sta alla base di tutto questo rispettivamente di pressione expulso e suzione impulso e simboleggiano la bipolarità stessa il gioco tra queste due polarità determina la vita e la morte l'elettricità si ottiene con il movimento di scarto espulsione gravitismo il magnetismo con quello di generazione ed è levitismo quale movimento si copia dalla natura determina che tipo di energia si ottiene infatti noi questo movimento di suzione nella natura per esempio possiamo vedere nel concepimento dei figli in cui noi abbiamo gli organi genitali dai quali tra l'altro Schauberger aveva ispirato tante delle sue delle sue invenzioni perché abbiamo appunto questa organo femminile che è fatto per risucchiare appunto il seme maschile attraverso movimenti vorticanti questo crea la vita e in natura si utilizza l'espulsione invece nella defecazione quindi per espellere ciò che è morto lui invece Schauberger era arrabbiato perché nella tecnologia corrente noi utilizziamo che cosa lo scoppio il motore a scoppio l'elettricità tutto ciò che viene dall'espulsione che quindi non può fare bene alla natura e ha rovinato l'ambiente perché si utilizza il movimento che in natura serve per distruggere invece che quello che serve per creare comunque l'acqua diceva emette radiazioni ionizzanti se scaricata attraverso un sistema di sottili getti sotto pressione poi anche il generatore kelvin si vedono queste cose esperimenti effettuati hanno reso possibile liberare 2 milioni di volt da una sola goccia d'acqua con una strumentazione composta da 50 dispositivi a getto d'acqua d'ago sono stati prodotti dal nulla 200 milioni di volt e questo mi fa pensare a tutte queste fontane che spruzzavano quest'acqua sottilissima in questi edifici che possiamo sempre ricollegare alla grande tartaria che potessero servire a ionizzare proprio l'aria attraverso l'emissione di queste vescicole d'acqua nell'aria perché secondo studi recenti fatti dallo scienziato Gerard Pollack che ti ho citato prima e ha spiegato molte delle cose che diceva Victor Schauberger che sembrano un pochino ermetiche però molte sono state spiegate da questi nuovi studi che sono riguardanti il fatto che l'acqua ha quattro stadi non ne ha soltanto tre ha uno stadio intermedio tra il liquido e il solido che è quello di cristallo liquido noi cristalli liquidi li utilizziamo come semiconduttori anche nel nostro computer i nostri schermi sono fatti di cristalli liquidi perché hanno proprietà di conduzione termica elettromagnetica ottica e di diversi generi per cui ecco perché l'acqua avendo quest'altro stadio di cristallo liquido è un ottimo conduttore cioè un ottimo è proprio un semiconduttore oltre che si può usare per diverse cose come vedremo adesso ed è la quarta fase dell'acqua è proprio quella che viene utilizzata dalle nostre cellule tutto quello che succede nei nostri corpi nelle piante il modo in cui usano la luce come trasduttore per avere energia è sempre dovuto al fatto che c'è quest'acqua che è in questo stadio di cristallo liquido e questo stadio si verifica ai 4 gradi e soprattutto e soprattutto si verifica quando l'acqua vortica appunto vortica diventa fredda raggiunge i 4 gradi diventa più come miele più viscosa e quindi lui aveva scoperto che trasportava meglio il legno perché è più densa insomma e questo è sempre tratto oddio è tratto dal libro appunto sulla quarta fase dell'acqua ma se tu hai qualche domanda interrompimi perché se no vado avanti come una specie di tre io per ora guarda lo sto prendendo anche come ripasso per unire puntini ma essendo una bella presentazione io te la lascio fare tutta e magari faccio qualche domanda alla fine perché per ora è molto tecnico molto direi incontestabile per ora ok va bene grazie perché col fatto che sono un po' sempre lunghe io vado avanti un po' perché dico chissà deve durare ancora tanto però se vado troppo veloce tu mi puoi fermare quando vuoi allora noi abbiamo scoperto ha scoperto questo scienziato appunto che le gocce e le bolle addirittura loro hanno questa doppia composizione all'interno della goccia c'è l'acqua liquida che si chiama bulk water bulk water come si dice alla fine la membrana insomma che contiene la goccia perché questa goccia si stacca dal resto dell'acqua e rimane sperica e rimane da sola perché c'è acqua lo stato di cristallo liquido che la contiene e fa parte proprio crea la sua membrana la stessa cosa succede nelle cellule noi abbiamo cristalli liquidi nel corpo tutto ciò di cui siamo fatti poi le ossa sono cristalli solidi ma il resto sono cristalli liquidi motivo per cui emettiamo questa luce dai chakra perché sono fotoni di diversi colori a seconda del tipo di frequenza che riflette quel determinato cristallo insomma perché è una comunicazione cellulare che avviene in base di luce di fotoni appunto che si comunicano tra di loro per questo che la medicina di segnale appunto che era stata introdotta anche con i famosi sieri utilizzava questo tipo di grafene varie sostanze in cristallo liquido perché sono biocompatibili e permettono di fare entrare segnali luminosi nel corpo per dare al corpo e al cervello segnali impulsi che il corpo riesce a seguire perché li scambia per propri praticamente e la stessa cosa per la bollicina che queste bollicine appunto si trovano nella nostra aria e permettono la conduzione di segnali di diverso tipo permettono anche la ionizzazione dell'aria insomma comunque tutte queste cose sui cristalli liquidi io ho fatto due documentari che adesso si trovano su Rumble perché mi hanno chiuso il canale dopo questi documentari l'ultima volta e comunque ve li metto in descrizione se le persone volessero approfondire quindi che cosa ha scoperto poi questo scienziato Gerard Pollack che questa quarta fase dell'acqua appunto è carica negativamente nella maggior parte dei casi in alcuni casi carica positivamente ma sono casi molto molto rari e l'acqua appena oltre è caricata in modo opposto possiamo vedere qua un'immagine per esempio questo è una superficie idrofila che significa che ama l'acqua insomma quando l'acqua viene versata in una superficie idrofila si crea immediatamente a contatto con la superficie questa parte questa porzione di acqua in cristallo liquido ordinata strutturata che non lascia entrare quindi nessun tipo di impurità perché è cristallo quindi anche per questo motivo l'acqua quando vortica diventa fredda si purifica si purifica perché questa parte di acqua caccia fuori tutto ciò che è straneo e la parte a destra invece vediamo che ci sono queste microsfere in sospensione che rimangono soltanto lì e quella è la parte caricata positivamente e quest'acqua che cosa succede si carica proprio come una batteria questa parte EZ si carica a contatto con l'energia radiante quindi l'energia solare l'energia soprattutto infrarossa quindi la notte continua a caricarsi e soprattutto con l'energia sonora quindi tutto ciò fa sì che si crei questa separazione di carica all'interno dell'acqua che si può sfruttare per eseguire il lavoro come delle vere e proprie batterie questa è una parte del libro che ho messo in cui hanno fatto questo tipo di esperimenti hanno visto appunto che potevano ottenere voltaggio mettendo un elettrodo nella parte EZ di acqua e nell'altra parte di acqua non EZ e appunto si produce della corrente proprio come si può fare in un pannello solare ma fatto a base di acqua quindi l'acqua di per sé è già un pannello solare già si può produrre della corrente elettrica soltanto con l'acqua e questo è un esempio sempre dal libro che mostra un po' con il disegno come è fatto l'acqua EZ carica negativa l'acqua subito vicino carica positiva l'energia radiante ricarica questa batteria e questo è ciò che si può fare con questa energia appunto energia chimico-fisica ottica elettrica meccanica e diversi tipi di energia radiante insomma radiante è anche il tipo di energia che appunto è quella di Tesla che trasmette anche la nostra terra come noi sappiamo tornando ad Atlantide Atlantide quindi probabilmente avevano conoscenza di questo genere sull'acqua a vedere a giudicare dal tipo di geometrie che utilizzavano per costruire con questi canali in questi cerchi che seguono proprio la forma dell'onda stazionaria di cui abbiamo parlato che dal centro si sviluppa come se fosse un risuonatore come se fosse una cassa di risonanza che deve espandere come abbiamo visto come faceva con le bobine Tesla deve espandere questo tipo di energia che proviene dalla terra in modo da amplificarla e utilizzarla e poi trasmetterla e distribuirla attraverso questi canali questo è uno studio che ha fatto dei ricercatori appunto in cui sono andati nella zona in cui il Timeo e il Crizia di Platone collocavano Atlantide e hanno trovato proprio sotto terra questo tipo di struttura e quindi hanno pensato che si potesse trattare veramente della città di Atlantide e c'è un documentario ancora su internet che si chiama Finding Atlantis in cui si vede tutto il loro studio quindi loro hanno trovato questa meravigliosa città che assomiglia veramente a quella che poteva essere Atlantide però questa città a me ricorda moltissimo altre forme che si vedono in giro per il mondo questa è Gagal Refaim a Israele che come vediamo ha una forma molto molto simile e ci sono nel terreno circostante delle strutture sepolte che assomigliano sempre ad altre griglie particolari come la presenza come vediamo di un canale che ora è sepolto che andava all'interno di questa forma e lo vediamo qua e poi abbiamo un'altra città di Arcaim negli Urali cioè in quella che era la vecchia Tartaria la Siberia e che è stata distrutta secondo gli studi di Fomenco è stata distrutta proprio nella guerra in cui la Tartaria è stata è stata appunto cancellata fra l'altro su questa ti volevo chiedere su questa struttura Gagal Refaim in Israele quali sono le proporzioni per capire un po' da quanto è presa in alto quindi è proprio fatta città eh sì è una grande città come vedi quello là di fianco che si vede è un fiume quindi quei piccoli puntini potrebbero essere dei quartieri delle case è molto molto grande è gigantesca e purtroppo c'è stato un problema di connessione non so esattamente dove si è fermato però vi volevo fare notare che anche qui c'è un canale che va appunto all'interno di questa grande struttura e quindi portava l'acqua all'interno di questa grande struttura e poi abbiamo questa città che è stata riscoperta recentemente è stata distrutta nella guerra secondo quelli che sono i racconti appunto dell'università di Mosca di Anato di Fomenco è stata distrutta proprio nella guerra in una guerra della 1800 da quelle parti lì in cui la Siberia quindi che all'epoca era la grande tartaria è stata sconfitta insomma e si chiama Arcaim e si trova appunto nell'attuale Siberia la vecchia tartaria che io vedo essere molto ma molto molto simile a queste strutture sempre circolare sempre con questi canali che entrano sempre con questi cerchi concentrici quindi io mi chiedo che cosa hanno trovato in realtà quelli che hanno trovato la città della Doniana in Atlantide appunto in Spagna hanno trovato veramente Atlantide o hanno trovato le vestigia di una delle tante città che componevano questo mondo anche perché non sono gli unici esempi questo è un piccolo raffronto che sto facendo appunto tra la ricostruzione di Atlantide in Spagna e Arcaim che sono molto ma molto simili e poi andiamo in Sudafrica dove ci sono centinaia di centinaia di queste gigantesche strutture che anche queste sono enormi come puoi vedere lì c'è un alberello che sta sulla sinistra qua dove c'è la freccetta per farti capire l'enormità tutte queste enormi strutture molto molto simili anch'esse collegate tra loro da canali e questo si trova appunto nel libro famoso di Michael Tellinger le miniere le antiche miniere del dio Enki e degli Anunnaki in Africa un nome del genere perché io ce l'ho in inglese non so come tradurre bene il titolo ma di Michael Tellinger è famoso sì e fra l'altro trovate la mia intervista a Michael Tellinger nelle puntate scorse quindi è stata davvero no me la sono persa me la fanno vedere ma quando l'hai fatta? l'avremmo fatta penso almeno un anno fa se non un anno e mezzo fa ecco stupendo quindi se avete già presente Michael Tellinger è quello che lui racconta no di queste strutture del loro probabile utilizzo insomma anche qui si vede che queste strutture erano tutte allineate con il cielo quello che gli antichi romani chiamavano templum celeste ogni volta che costruivano loro lo facevano sempre allineando le strutture al cielo a diverse costellazioni oppure a tutti i solstizi gli equinozi come noi sappiamo anche queste strutture seguono questa questo allineamento celeste insieme a queste proporzioni che ci riportano al vecchio al tetraedro alla geometria sacra insomma che sarebbe poi come noi sappiamo alla base della materia dei cristalli che compongono il carbonio fatti in questa maniera per cui è come se volessero essere tutti quanti dei grandi risuonatori dei grandi woofer per amplificare questo tipo di pattern vibrazionale che proviene dalla terra come possiamo vedere qui in questa immagine sempre tratto dal libro di Michael Tellinger questo è un esempio della cimatica che ormai tutti conosciamo di fare vibrare dei liquidi a determinate frequenze per vedere i tipi di disegni che si creano e quindi queste grandi strutture sembrano voler proprio ricalcare questo tipo di pattern di modelli geometrici e anche oltretutto io ho notato la somiglianza proprio con i pattern del strati e z appunto dell'acqua cristallo liquido che sono tutti esagonali proprio come un nido d'ape e queste strutture esagonali si trovano come ha fatto vedere anche Michael Tellinger forse qua non ho la foto in tutta gran parte insomma di queste di queste strutture che lui ha trovato in Sudafrica e proprio la questione dei cerchi concentrici che noi vediamo in tutte queste strutture da Atlantide in poi tutte le strutture che abbiamo fatto vedere sono usati proprio come camere di risonanza nell'amplificazione delle frequenze di suono e funzionano come cavità di espansione della risonanza qua ha fatto un esempio molto carino Michael Tellinger accostando quello che è un magnetron a cavità risonanti che è un oscillatore ad alta frequenza ad alto potere ad alta potenza con una di queste strutture che erano sempre collegate tra di loro da canali come se in queste strutture si amplificasse questa energia la si raccogliesse e poi si trasportasse nella griglia in modo da essere utilizzata dove ce n'era appunto bisogno e queste sono tantissime immagini che ci sono lì in Sudafrica probabilmente in quel caso come spiega Michael Tellinger veniva utilizzato veramente nello scavo di oro che era molto importante tra l'altro in questa grande tartaria perché con l'oro loro costruivano tutte le cupole delle loro chiese come le vediamo ancora oggi in Russia perché è l'oro grandissimo conduttore elettrico come noi sappiamo e quindi qui si va agli studi di quelli che erano di quello che era appunto le conoscenze delle civiltà megalitiche che hanno costruito anche tutti questi grandi cerchi in Sudafrica e tanti altri che noi conosciamo in giro per il mondo senza che si possa capire come abbiano fatto siccome noi con i nostri moderni le nostre moderne gru non riusciamo ad alzare dei massi di quel genere e non abbiamo la forza per creare appunto delle strutture di questo tipo e Edward Leedskaling aveva appunto ricostruito dicendo appunto di avere scoperto i misteri delle piramidi come gli antichi costruttori facevano ad alzare dei blocchi di pietra così ha costruito e anche traslocato in un altro posto un complesso di megalitti talmente pesanti che hanno provato appunto ultimamente a tirarli su con delle enormi gru e non sono riusciti a farlo per cui non si capiva come aveva fatto lui che ha studiato le correnti magnetiche che cosa ha fatto ha utilizzato la posizione degli astri quindi anche lui come hanno fatto questi antichi costruttori di tutti questi cerchi che abbiamo visto ha allineato alla posizione degli astri il suo luogo ha fatto un templum e ha trovato una griglia energetica che si muoveva lungo queste determinate posizioni che ha sfruttato per usare per sollevare appunto questi gravi questo era un generatore un alternatore forse che lui ha costruito che ha utilizzato per questa cosa addirittura c'è questa porta che era una porta basculante che era aveva trovato talmente il punto perfetto per mettere questo grande ammasso di masso di granito che la porta girava su se stessa senza bastava che tu la sfiorassi adesso poi avevano fatto dei nuovi lavori e non funziona più però lui aveva trovato tutti questi allineamenti perfetti e l'ha costruito per ben due volte perché nel momento in cui si sono cambiati gli orientamenti celesti lui se n'è andato da un'altra parte e l'ha ricostruito ben due volte e questo ci riporta alla levitazione sonica che aveva scoperto John Keely che è chiamato questa volta Tesla del suono perché abbiamo già visto il Tesla dell'acqua il Tesla normale e anche il Tesla del suono lui ha fatto strumenti di levitazione sonica con cui riusciva appunto a alzare enormi 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 pesi ha fatto tantissime scoperte Keely sempre utilizzando la sua conoscenza dei modelli vorticosi che utilizza l'ettere quindi questa scienza dei vortici dell'energia del vortice che si trova nell'ettere e nell'acqua e lui praticamente che cosa ha spiegato che ha trovato la simpatia la connessione simpatetica di queste massi giganteschi che lui voleva sollevare con il con il rivolgimento dell'asse polare e il motivo è appunto che utilizzava proprio questo movimento di cui parlava anche Schauberger attorno a cui gira appunto la terra l'asse polare per sfruttare questo tipo di corrente che si crea proprio all'interno di questo vortice di questo sole nero che sta all'interno appunto dell'asse polare infatti noi sappiamo appunto che tutte queste costruzioni erano allineate al cielo e soprattutto erano allineate alla vecchia stella polare come le piramidi che era Tuban o Alfa Draconis all'epoca quella era la stella polare attorno a cui girava tutto il firmamento questo qua è un esempio di quella che è oggi la stella polare nostra appunto e il cielo del polo nord celeste che gira attorno alla stella polare all'epoca invece della costruzione delle piramidi era appunto Alfa Draconis per cui tutti quanti parlavano appunto del drago celeste e qua sotto vediamo invece il polo sud celeste dove non c'è una stella per l'orientamento ma gira dalla parte opposta e assomigliano moltissimo appunto ai due vuoti e ai cerchi concentrici che ci sono in un campo magnetico e tutto questo perché appunto probabilmente è proprio questo genere di campo magnetico terrestre che girava appunto attorno a quest'asse terrestre che le antiche culture sfruttavano per avere aiuto nella levitazione motivo per cui appunto orientavano in questo modo tutte le loro strutture e ho ancora qualcosina da dire però se vuoi interrompermi fai punto no io ti farei concludere perché qua entriamo veramente sì in un nuovo mondo con quello che avrebbero dovuto spiegare bene a scuola in realtà hanno prima deframmentato poi diviso e poi deriso ecco esatto esatto quindi ultimamente ho fatto un viaggio in un posto molto carino che si chiama si chiama inghiottitoio del busento il fiume busento in cilento dove ci sono anche qua ho riscontrato le stesse cose che ho riscontrato negli altri posti quindi come tutti questi fiumi queste grotte avessero dei precisi scopi di trasporto dell'acqua proprio verso addirittura mulini e insomma non avessero minimamente un tracciato casuale ma avessero tutte quelle tutti quei crismi di cui parlava Vitruvio appunto Vitruvio nei suoi testi di cui vi ho accennato prima quindi tra l'altro anche questo è un fiume che è stato fatto deviare in epoca in epoca appunto del re Visigoto quindi dicono il 410 dopo Cristo quindi già anche qua si parla della loro bravura nel deviare fiumi perché ci hanno seppellito sotto il re Visigoto Larico e poi dopo hanno fatto passare il fiume là sopra e se uno vede il fiume di oggi che è un enorme canyon io mi chiedo come hanno fatto ad eviarlo significa che anche il canyon l'hanno fatto loro comunque qui questa è un'immagine dell'inghiottitoio che è gigantesco enorme e questo quando l'hanno ritrovato era tutto pieno d'acqua ora l'acqua praticamente non c'è più perché viene sfruttato da una grande diga per la produzione di energia idroelettrica e mi sono sbattuta la testa e qui non si è visto non si è visto perché sono intricata in un posto piccolissimo e qui c'è un bellissimo ecco bello questo c'è un bellissimo mulino a cui arriva proprio l'acqua da delle polle e dai condotti che stanno dentro la roccia ma è meraviglioso si vede che è tutto stato fatto in maniera completamente artificiale muretti chiuse è bellissimo e c'è questa acqua che ionizza tantissimo l'aria perché viene fuori a grandissima pressione e c'è questa pala bellissima di tipo greco quindi fatta al contrario rispetto a quelle che vediamo e questa produceva la usavano appunto per mietere il grano per per fare la farina insomma non per mietere però è la stessa identica tipo di funzionamento poi di una di un generatore di energia idroelettrica perché si fa esattamente nello stesso modo quindi la capacità insomma c'era però la cosa interessante nella zona che ho visto è stata questa torre questa torre che mi ricorda tantissimo tante belle torri per ritornare sul tema dei castelli appunto della loro possibile funzione con l'acqua che abbiamo visto nella puntata scorsa questa bellissima torre e sì che come abbiamo visto nella scorsa nella scorsa puntata queste sono immagini di torri antiche di castelli dove si vede dentro che c'erano proprio dei serbatoi per l'acqua e che quindi probabilmente erano usati per quello questa torre che cos'è è un pozzo piezometrico della centrale idroelettrica è una cosa molto molto interessante questo pozzo piezometrico e questa è la condotta che porta l'acqua a valle ha questa forma particolare proprio per questioni idrauliche di produzione energetica e questo è quello che dice Wikipedia di un pozzo piezometrico è un pozzo verticale che si utilizza nelle centrali idroelettriche ha la funzione di proteggere dal colpo d'ariete la condotta forzata posta a monte questo famoso colpo d'ariete si causa per via di una brusca diminuzione di portata della massa liquida che influisce in una condotta quindi un tubo che entra in questa condotta un tubo piccolo l'acqua che esce fa un grosso colpo quando arriva a contatto e dice l'energia cinetica della massa si trasforma in energia di pressione chiusura delle valvoli della centrale e quando a valle si chiude la saracinesca che permette il deflusso dell'acqua si crea alle sue spalle una sovrappressione che genera il cosiddetto colpo d'ariete l'acqua che va a sbattere per assorbire questa sovrappressione si utilizza questo pozzo piezometrico che è costruito a monte dalla saracinesca nel quale può sollevarsi la colonna d'acqua che dissipa per l'appunto l'indesiderata e pericolosa sovrappressione questo pozzo ha anche la funzione di volano idraulico cioè rende immediatamente disponibile una certa quantità d'acqua a monte delle turbine all'apertura delle valvole in centrale e l'altezza del pozzo è tale da raggiungere almeno la quota massima dell'invaso del lago questo colpo d'ariete famoso viene utilizzato anche in delle antiche tecnologie per appunto fare arrivare l'acqua in alto per esempio nel palazzo di Versailles in tanti vecchi palazzi insomma si utilizzava questo genere di pompa perché non avevano l'elettricità non avevano delle pompe idrauliche quindi quando dovevano portare l'acqua dal basso verso l'alto utilizzavano sempre questo principio del colpo d'ariete sono stata da una persona che le ha costruite che le utilizza per portarsi l'acqua in casa e gli fa fare un altissimo dislivello senza bisogno di energia elettrica e io faccio questo è un piccolo video per fare capire visto l'acqua arriva dentro fa una grossa pressione che fa aprire questa valvola con questi pesi che quando ridiscendono fanno entrare l'acqua nel tubo di sopra gli danno una tale spinta che l'acqua supera dei dislivelli grandissimi molto interessante ecco queste queste parti sera sono molto tecniche però ci fanno proprio capire come in realtà ci sia molto di quello che noi pensiamo essere naturale o che sia l'unico modo l'unica tecnologia come dicevi tu l'utilizzo dell'ambiente e l'utilizzo in ambiente di forze distruttive di forze che sono tra virgolette decisamente svantaggianti rispetto a tutta la serie di tecnologia che apparentemente abbiamo perso ma anche abbiamo perso la capacità di guardarci intorno e di farci domande perché questa tua teoria sui fiumi che è veramente molto affascinante più l'ascolto più in qualche modo lascia intendere quindi cos'è naturale su che cosa non hanno messo mano e chi sì anche perché come abbiamo visto nella scorsa puntata tutti questi testi come Atrasis che parlavano del portare l'acqua in alto abbiamo visto l'altra volta la tecnologia del sostegno delle doppie chiuse e abbiamo anche quest'altra cosa di questa pompa colpo d'ariete quindi avevano tutte queste tecnologie senza l'utilizzo necessariamente dell'elettricità ma anche soltanto della semplice acqua anche senza andare in energie più complesse di cui stiamo parlando con cui facevano tantissime cose tra cui avevano anche l'ascensore idraulico avevano tantissime cose che loro utilizzavano utilizzando l'acqua invece appunto che invece che l'elettricità e questo è un esempio di pozzo pizometrico che vediamo quindi dove si colloca e a che cosa serve che come abbiamo visto è molto simile per le sue forme alle torri dei castelli a cui io già avevo pensato come possibili serbatoi d'acqua che servissero quelle forme proprio anche per dissipare la pressione dell'acqua insomma che arrivava forzatamente di cui infatti parlava estesamente Vitruvio perché il problema della pressione dell'acqua se no spaccherebbe gran parte appunto delle infrastrutture invece sembra che loro avessero una grande conoscenza proprio di questo genere di fisica idraulica questo si è un esempio di quello che fa un pozzo piezometrico e adesso arriviamo di nuovo a quello che vediamo oggi nelle nostre città perché a me ricorda molto appunto queste torri che noi vediamo proprio a ridosso di monti e come e questo che noi vediamo qui è proprio una cosa molto particolare perché è il famosissimo pozzo di San Patrizio che come vediamo ha una forma molto particolare perché ha due scale a forma di doppia spirale come vediamo qua che a noi dicono che servivano perché dovevano scendere con gli asinelli ad attingere acqua ma io penso quando vedo tutto questo che tutti questi buchi e queste doppie spirali che mi ricordano molto appunto quello di cui abbiamo parlato quindi il movimento naturale che l'acqua deve avere per tirare fuori la sua energia di cui parlava Victor Schauberger io penso che possano rimandare molto a questo e infatti anche questo è un pozzo ma è in realtà una torre che si sviluppa proprio nello stesso punto in cui può essere oggi un pozzo pizometrico quindi proprio a ridosso di dentro un monte che da sopra quello che sotto è un piano ma poteva esserci un bacino idrico una volta noi non lo sappiamo prima perché li fanno li prosciugano non sappiamo tutto questo però è interessante questo è l'interno del pozzo di San Patrizio e questo a destra è l'interno di un pozzo pizometrico quindi vediamo qualche allusione proprio sia al bisogno di dissipare questa pressione acquatica che potrebbe essere nel pozzo di San Patrizio tutte queste finestrelle e anche questo movimento doppia spirale che servisse proprio sia alla purificazione che all'estrazione di energia dall'acqua quando queste due spirali vorticano e dal centro c'è questo vuoto e mi ricorda proprio quello che era la descrizione di Catalista di Victor Schauberger che diceva che era un condensatore perché appunto un pozzo pizometrico si potrebbe chiamare anche condensatore in elettronica prima abbiamo visto la pompa colpo d'ariete che aveva sopra questa specie di vaso di espansione blu che serviva proprio perché quando l'acqua arriva arriva a colpi va prima a riempire quel vaso e poi da quel vaso quando è pieno viene poi reintrodotta nell'altro tubo in maniera continua quindi un po' come in elettronica sarebbe un condensatore che o un ponte raddrizzatore insomma che da corrente alternata pulsata la trasforma in continua praticamente l'idraulica e l'elettronica sono praticamente molto molto simili e quindi Schauberger faceva condensatori proprio a partire dall'acqua stessa e diceva è un condensatore che è stato allineato con due sostanze di carica opposta come abbiamo visto nell'acqua ci sono due cariche opposte che irradia principalmente forme energetiche a potenziale negativo quindi utilizzando solo la parte EZ la parte negativa nel mezzo naturale in movimento a spirale centripeda questo attiva un flusso diamagnetico cioè eterico la forza formativa e levitativa che risucchia verso l'alto mettendo in moto il dispositivo generatore che può essere regolato dalla frequenza rotatoria con questo la forza è stata riscoperta per permettere ai velivoli di superare senza sforzo la gravità e a macchine stazionare di essere attivate virtualmente dal nulla secondo i racconti dei tempi passati i sommi sacerdoti delle antiche culture avevano il comando sulla conoscenza di questo potere per cui venivano venerati come dei questo diceva Viktor Schauberger e a me ricorda molto il Pozzo di San Patrizio ecco direi che andiamo alla conclusione quindi per chiudere abbiamo visto che tutte le città erano collocate in punti strategici allineati al cielo sulla terra lungo canali con fiumi che le collegavano a mari e oceani sappiamo che l'acqua salata è un buon conduttore di elettricità e anche un condensatore pensiamo alle batterie al sale che si usano oggi l'acqua di fiume genera queste correnti energetiche arriva al mare salato che può essere un grande grande accumulo accumulatore condensatore poi il mare stesso è un generatore di energia a sua volta questi edifici probabilmente prelevavano questa energia dall'acqua come dei pannelli le magazzinavano nelle loro strutture enormi proprio come dei condensatori le strutture estraevano l'acqua gestivano la sua energia attraverso il movimento come abbiamo visto e l'amplificavano attraverso la conoscenza della legge di risonanza e così hanno costruito un'enorme griglia energetica che permetteva sia alle città di essere approvvigionate di acqua e di energia e anche di facilitare il lavoro delle manovalanze attraverso l'uso di queste forze magnetiche levitative che gli permetteva di costruire enormi enormi complessi il fatto è come diceva Schauberger che come appunto questo tipo di energia era responsabile della leggendaria quasi assoluta abbondanza di cibo e libertà di movimento dall'altra parte è anche molto distruttiva se viene pulsata una frequenza troppo alta perché può fare può risucchiarsi il pianeta il vortice può distruggere tutto quanto e quindi lui dice appunto che probabilmente il diluvio di Atlantide possiamo dire forse il diluvio di Tartaria può essere stato innescato proprio da un processo di questo tipo che possa avere utilizzato lui diceva proprio l'acqua perché le precipitazioni di acqua a grande altezza possono produrre questo genere di risultato nefasto e può quindi avere distrutto tutto questo genere tutta questa civiltà e quindi forse da qui possono provenire queste leggende sulla sommersione e la distruzione di Atlantide proprio a causa di quest'uso sconsiderato sull'utilizzo di questa energia di queste tecnologie basate proprio sull'acqua e sui cristalli secondo me hai fatto un gran lavoro e questo fa capire come in realtà ci sia chi queste conoscenze le ha le nasconde ma non è poi così duraturo il lavoro del terreno nascosto prima o poi verrà fuori e questo è un ottimo inizio anche molto tecnico quindi ti ringrazio per tutto il tuo lavoro il tuo impegno la passione che ci hai messo e sicuramente invito anche i nostri amici a ascoltare riascoltare prendere i pezzi approfondire perché è veramente anche scolastico e anche di buon livello tutto il lavoro che hai fatto per recuperare tutte le conoscenze in ambito energetico e anche quanto poco si sappia della storia quando vediamo tutte le ricostruzioni cinematografiche della vita nei castelli vediamo come in realtà abbiano un po' tirato a indovinare ecco quindi quanto poco naturale umano potesse essere quel modo se si pensa a una tecnologia che noi non abbiamo più ecco che tutto almeno in teoria riassume una forma più umana più vivibile e sicuramente più credibile io ti ringrazio Sara per questa puntata insieme grazie mille a voi per la pazienza e per l'interesse insomma per l'ascolto teniamoci aggiornati perché avremo tanto di cui parlare un lavorone anche il buon Mesbet per mettere insieme le due puntate lo ringraziamo fin da subito io direi Sara ci vediamo poi anche dal vivo ti aspettiamo in sede ti aspettiamo prossimamente per ora un abbraccio grande promo sigla appuntamento alla prossima grazie ciao come scrisse George Orwell chi controlla il passato controlla il futuro chi controlla il presente controlla il passato facciamo finta che è il canale youtube ideato e diretto da Gianluca Lamberti sono quattro i nuovi video ogni settimana il lunedì il mercoledì il venerdì e la domenica alle 21 e 30 in diretta sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione facciamo finta che è presente su ogni social a te basterà seguirci a te Grazie a tutti.